questo però c'è tanto prima o poi basta comunque no è che l'altra volta è stato un po sfortunato perché essendo il coin non c'era roba hanno preso un momento secondo me fantastico di non chiacchiere a generale se la sono presa tutta per mesi c'era horizon è stato schiacciato è che quando è che eldon rinforza nemmeno importante però sarebbe cioè non è che non c'era chiacchiera c'era c'è comunque però sì se esce l'anno ora secondo me è un gioco è una settimana se finisce proprio in generale la chiacchiera come finita su final fantasy però in un anno come l'anno scorso in cui c'erano mille giochi non è solo quello che è uscito è quello che poi deve uscire quello che esce nel frattempo nel marasma secondo me questa è bella questa è bella secondo te se fosse uscito l'anno scorso se ne sarebbe parlato di meno un po di meno nettamente dai loro hanno indovinato anche un momento fantastico cioè non ci è capitato doveva uscire la fine del 2020 nel senso fortunato non che stati bravissimi intendo quello c'è capitato quel momento di anche mezzo vuoto era la roba grossa era la roba comunque più chiacchierata in generale in questa bolla di nerd rincoglioniti ciao a tutti intanto e quindi si è preso tutto proprio corrivi col rimorchio in un altro momento secondo me altra gente giocava a street fighter 6 un po a zelda un po di ablo un po roba e della mangi lo spazio da un po wonder c'è roba che comunque anche in questo gruppo genera chiacchiera in quel momento non c'era niente c'era animal crossing che era un'altra nicchia a parte però anche animal crossing è stata usufruito di quel momento giusto è anima costi non ci ha mai avuto la chiacchiera il movimento dietro che ci ha avuto durante il coi no e comunque sono passati un sacco di anni qualora mi sembra veramente questo lasso di tempo covide mi sembrano cinque minuti l'altro giorno c'era roba bergamo che hanno fatto per le vittime quattro anni da quel momento in cui abbiamo visto l'immagine dei camion a bergamo beh quattro anni sono in effetti comunque tanto tempo 2020 sembrano molto meno sono tanti a te sembra molto meno questo lasso di tempo che sembra sì essere passato dall'inizio sì però considera che sembra ti sembra molto meno perché il covide comunque fino a inizio 2020 prima metà 2022 comunque era ancora presente come si non parlava del momento proprio da quel momento all'aria sembra lontanissimo sembra passato un secolo e invece no cioè a te sembra meno di quanto ne è ok io non ho un'idea forse normale va direi mi giusto così com'è ci penso e dico a 2020 sì 2020 sembra passato un giusto invece sul covide no però prima ringraziamo catania food lovers che rinnova il suo abbonamento con prime per un totale di sette mesi e ci vuole bene e anche noi gli vogliamo bene grande catania food lovers un abbraccio digitale e porrino underscore 90 che rinnova il suo abbonamento con prime per un totale di 39 mesi e sono 39 caraibi ualo caraibi vito caraibi a tutti caraibi porrino un abbraccio digitale a te caraibi 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 grazie a tutti e due per il supporto c'è jay shodan che dice che confusione boh un po ha ragione in questo caso era un po spiegata molto male da parte mia accetto la critica sulla questione del covide credevo si rifacesse al titolo che abbiamo della trasmissione no beh ma sei stronzo non l'avevo visto che palle altro devo un piano adesso se riesce fuori un argomento del genere in cui ti vetti a fare il precisione della fungia scappo fortissimo comincio a correre e tu capisci che devi cambiare argomento secondo me possiamo giocarcela così ma ma questo è divertentissimo ma scusa aspetta ma per capire anche se facciamo cioè per vedere com'è la cosa così facciamo una prova subito posso anche improvvisare ho anche in mente una scomparsa all'omer simpson anzi alla peter griffin in family guy la instagram striscia fuori dalla poltrona omer nel cespuglio posso provare ok va bene bello ho trovato un tappeto meraviglioso e qui c'è il tappeto verde fatto quella a pelo lungo che hanno un nome ma io non conosco e qui c'è omer simpson e sparisce in mezzo a questo tappeto è stupendo secondo me ce l'ho anche salvato dalla parte del caso quello comunque avete provato la demo di sandland no perché tu non l'hai fatto vito perché a me è sembrato orribile dal primo minuto ma allora vediamo insomma anche uno di quelli si può dire adesso è morto da una settimanella perché lo dicevo prima adesso non posso ritrattare perché è morto a chi la torigliama ma sono uno di quelli che quando stavano lì a parlare di dragon ball non mi piace l'ho adorato da bambino però poi bisogna anche andare avanti c'è dragon ball dopo cent'anni a dire senza offendere a chi la torigliama a immagino proprio di sì eh io l'ho amato nel senso io magari non sono d'accordo nel senso che a me non è successo però cioè se è certo che si può dire madonna cioè salì a 50 anni ancora dragon 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 andate avanti a gente con le uova di pasqua anche no a 50 anni lo diciamo anche al capcomics perché ho visto anche capcomics che è andato a pesare le uova di pasqua di dragon ball no era un'altra roba di dragon 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 ma lui la cosa di pesare era già era pure per un'altra cosa non mi ricordo io l'ho vista su dragon dragon ball può essere può essere ho visto il fatto di pesare lui che no ma proprio lui che spiega come si deve fare quanto pesano le cose hanno fatto tutti la semiguida esatto sì e nei supermercati hanno dovuto mettere i messaggi cioè brutti deficienti smettetela di pesare le uova di pasqua ma sandland poi che cioè che era una opera sua dei primi tempi mi pare forse opera prima non mi ricordo però nella parte come mondo come universo quindi ispirata a un suo manga una sua roba ma il gioco invece che è un open world di che di open world sicuramente super vuoto un po che credo anche signor gigio ha pesato le uova di pasqua vabbè non è che siete brutte persone si esercito ma io vi giudico cioè inutile che poi non posso mentirvi però sembrate dei cogliori bellino sandland guarda no quando si vede le loro scende in che personale figo poi guardano quando si vede alcune cose non è male il mondo è proprio povero povero quindi non c'ho sta voglia non ho neanche provato la demo di princess peach che invece volevo provare però sto gonfio di roba da giocare adesso mi sono iniziato due tripla della madonna 100 mila ore quindi calma adesso mi gioco la roba c'ho mille inni da giocare stamattina stavo in ufficio cosa ho fatto un giretto in american track e non capisco perché non faccio solo quello nella vita che c'è con meraviglioso abbiamo appena introdotto una roba video che anche quando siamo nella schermata d'attesa affanculo quando serve che c'è il video da guardare eccetera si va un attimo nelle schermate post sigla con la cosa facciamo un po il cazzo che ci fa ecco diciamo esattamente esattamente però detto questo a sto punto ne possiamo approfittare per cominciare se vuoi vai sigla Buonasera Mister Wallow Mister Wallow Mister Wallow Mr. Warhol ma spero che devo recuperare il messaggio per capire qua ho capito si ha proprio furnish most ok si 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 assolutamente non ho visto ma non sembra completamente roba mia perché mi sembra più una roba artistica la roba di fare le cose belle che fare le cose di schiavo che invece piacciono più a me c'era invece una roba di oggi di joe pep che sta racconta i giochi dalla gdc nei suoi post su instagram fornish fornish master fornish fornish a me ha sembrato un po unpacking più che un gioco di lavorare però sembra di arredare un gioco di arredare è bravo gioco di arredare ok si somiglia anche un packing perché come come c'è proprio come si funziona sta roba sembra uguale però il concetto che è diverso quello è narrativo questo sarà proprio invece fare le sostanze non è detto e non è detto però fare quello che ha fatto un paying non è facile cioè gli era riuscita veramente bene secondo me perché te ne accorgevi casualmente cioè tu facevi queste cose in certo dio ma mi sta raccontando una storia questa tizia non me l'aspettavo fosse anche della narrazione detto molto bello lo stile però neanche la demo ci ho avuto voglia di provare quando c'è stato lo steen festo allora c'è una richiesta di gp idol che fa molto ridere ciao ala mi fai una lista di parole caibane che fanno rima fra di loro grazie è un po ed è un po difficile perché vorrei fare una canzone probabilmente riparliamone dai riparliamone in una volta che non c'è vito tipo così non sprechiamo tempo di vito per un'altra cosa che si può fare quando siamo da soli però è interessante parliamo in un'altra occasione mi fa ridere però la lista di parole con la rima e invece no che dicevi giopep ha fatto vedere una roba di ha parlato di un gioco di lavorare in un supermercato narrativo lo stile sembrava proprio bello ma non c'è neanche su steam al momento per un vero giopetto 100 per cento cioè ormai i giochi che gli sviluppatori non pubblicano gli fanno giocare a lui e lui ne parla ormai la gdc in questi giorni la gdc di san francisco è vero con il bellotta ho visto un sacco di storie loro si stanno divertendo un sacco prima o poi ci vado pure io con giopetto alla gdc a cazzo così ma andiamo andiamo vieni pure tu vito andiamo pensa che organizziamoci del cazzo alla gdc probabilmente verrei più volentieri sì però a me pure il favore vacanza cioè nel senso di tipo vacanza san francisco ah è san francisco è capito è bello andiamo là con jo pep ci guida lui che conosce tutto ormai quali dove che si fa quali sono i fatti come funziona l'evento eccetera saprà segnalarci un sacco di robe interessanti e e poi sai quante chiacchiere poi si possono fare su quella roba una voglia andiamoci qualche volta tipo cominciamo a pensarci per l'anno prossimo per esempio tutti a san francisco a cercare le zirfe dicevano a parte c'era uno bravo a parte cercare la raduno a san francisco ragazzi fate una live di video show a gdc praticamente pioveranno gli sponsor stanno già piovendo i vanieri vito ma sta felpa è overwatch si è la felpa della tizia che guida il robottone giusto si diva diva asid di punto va sì 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 non lo so perché ho fatto solo la bella ma mi piaceva la felpa ecco sì 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 bellissima infatti anche il personaggio mi piaceva un sacco come divertente e mai giocato e quel personaggio però ma mai non ho giocato troppo neanche proprio a overwatch in generale io la bella me se questi multiplayer qua anche se mi piacciono però non hanno pausa e non riesco proprio fisicamente che distruggono io sto già col di mio col mal di testa se mi fai fare una roba che per due ore sono sempre a giocare in stacco quindi amo un sacco quelli alla rimbosizia la varolanta alla sua come c'è che se muoio pausa e mi succede di morire di soluzione universo pausa ma comunque anche l'azione la roba che puoi stare fermo ad aspettare c'è quella roba più ragionata la tollero questa invece spari tutto il tempo no pausa così non ce la faccio ma anche quello di ucce mi stanco proprio quindi esco dopo di ore che la testa sta impazzendo di uno troppo vecchio per questa roba qua io voglio guidare camion questo è il mio punto massimo dota 2 il gioco da per te o sai che il momento quel momento la in cui dota 2 è diventato famoso io non sono quelle cose che non te ne accorgi ce l'ho capito dopo a un certo punto dota 2 era conosciuto da tutti superfamosi a volte me ne stupisco perché sto lì dalla mattina alla sera segui news metti link parli ne parli dota 2 nel frattempo è diventata la roba più clamorosa del mondo lo giocano 7 miliardi di persone non me lo spiego però me lo spiego col fatto che magari su un multiplayer o i siti generalizzati questi generalisti non si parla tanto di dota dota 2 vanno proprio a finire in un altro ambito sì sì assolutamente questo tra l'altro le tue stesse parole le pronunciavano in blizzard no dice quando sa che tutta sta roba nasce da una mod di warcraft 3 e che loro avrebbero potuto farli loro sia league of legends che dota 2 ci avrebbero potuto capire che quella mod di warcraft 3 che si adotta tra l'altro era la una roba giocatissima e che avrebbe potuto portare a prodotti poi seguiti così e invece non se la sono cagata loro ce l'avevano in casa e non se la sono proprio creata anche counter strike l'ha capito al fly fall hanno lasciato andare perché era roba loro cioè sono quelle robe che secondo me si alimentano un po da sole quando lo capisce è tardi è però counter strike di chi ha fatto fare i soldi penso anche a ball è capito invece blizzard il cazzo cioè da blizzard ha fatto nascere riot e ha fatto fare altri soldi anche a valve con dota 2 ci sta loro proprio zero anzi sono arrivati a a dover inseguire con heroes of the storm anni dopo fallendo anche quindi non è un po mai toccati essendo arrivato tardi era già una roba che manco da dire lo provo quindi non l'ho proprio percepito no io proprio perché non mi troppo frenetico e quella cosa che un po dicevi tu anche di overwatch c'è troppo troppo esagerato e già quando si giocava a dota su warcraft io gioco un sacco a warcraft 3 all'epoca quando nasce dota ho visto una live tua da tenobis watch in cui parli del tuo amore per warcraft 3 sì e quando si giocava a dota e anche i miei compagni di warcraft 3 cominciavano a giocare a dota dicevo bellissimo è la sera io la mi sono fermato cioè l'ho provato dota ed era una roba che dicevo sì ok è intelligentissimo il fatto che la roba figa di warcraft 3 e muovere i singoli eroi perché anche come introduzione proprio di gameplay l'ha inventato warcraft 3 questo fatto di quello la cosa su cui si basano i moba è bellissima sta roba della mod che ti fa che ti muove le altre unità in automatico così tu pensi solo all'eroe che era la parte di gameplay divertente di warcraft 3 però è non mi piace cioè preferisco l'altro sono stato molto blizzard uguale a blizzard io e blizzard tutte e due ciechi su su sta roba e quindi poi pure dopo quando sono usciti i giochi proprio league of legends e dota 2 non io non li ho proprio visti arrivare e lo ricordo cioè non mi ricordo il momento in cui arrivano in cui diventano una cosa c'è proprio ah no io invece avendo avendo visto questa nascita dicevo minchia guarda però ah 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 è diventata e poi certo non ti aspetti che diventi una roba così clamorosa addirittura ready vivo fa una domanda sì questa l'ha giocata anche un valone da domande manco vito riesco a pronunciare bene vito che ne pensi di control io lo sto giocando sul game pass mi stanno facendo da morire a me ha fatto impazzire lato del play c'è proprio piaciuto un casino super divertente mi è piaciuto anche per la narrazione in un paio di scene super fighe però la storia raccontata nei fall di testo da leggere no per me è sbagliato cioè per me è proprio poco videoludica quell'idea molto antica di dire ti racconto la roba ti devi leggere i giornali posticci raccontati male attraverso un modo in cui le persone non farebbero mai nella realtà perché non scrivono così le persone cioè quella roba per me proprio non funziona però come si giocava bellissimo peccato per la mappa che si poteva fare un sacco meglio la mappa era un passtrocchio totale che ti faceva perdere un po di tempo però caspita quando si giocava era una meraviglia il migliore io ho questo per me il loro migliore da giocare mi sono divertito più di tutti gli altri più di alan wake 2 ma anche del primo primo si basava più del fantastico quantum break quantum break non era male quando si giocava assolutamente questo è più di giocare sempre non mi sono piaciuti troppo i dlc li ho patiti un po per difficoltà quindi ho dovuto abbassare però aspetta tu non avevi giocato i primi due max pain giusto no perché quelli erano carino proprio belli no no quando arrivita di secondo me di per no no questo ci aveva delle cose fighe bello da vedere cioè nel capo da mezzo cavolo questo e ti piaceva il fatto che l'arma è una sola però in realtà poi la mia vita anche questa mia lista hai pochissime modifiche tipo ieri ho iniziato dov'è che sono già impazzito a fantasy 7 che ti dice che devi cambiare arma perché se cambia arma è meglio fare abilità io no te prego voglio usarne una sola non mi devi rompere le palle cioè la roba mia moscia però ma ormai tu vito secondo me tu vuoi giochi narrativi ma non è verissimo al 100 per cento è dove c'è la storia voglio più solo la storia però mi piacciono i giochi da giocare non mi piace per niente questa roba delle scelte perché va dinanzia perché ho la possibilità di farla sbagliata la gente non sbaglia non ci va in ansia perché si studia le guide prima e se guarda gli streamer e sa quello che deve fare prima e guarda le liste obiettivi tendenzialmente vanno molto a colpo sicuro su quello che si deve fare poi ti diranno che non è vero ma non è mai in realtà studiano e quindi non patisco con questa cosa io che non studio i giochi ci voglio arrivare sempre vergine cioè non conoscendo niente questa cosa che posso spendere tutti i miei soldi in un'arma mi fa non spendere soldi mi stai facendo spoilerare fan al fatto no ancora è sempre lo stesso trailer degli ultimi mesi e ogni volta che io non ho guardato è lo state of play che secondo me abbiamo anche visto quando è stato fatto cioè potrebbe lo escludo che l'ho visto no magari sì però è uno state of play avremmo potuto vederlo capito avremmo ma non l'abbiamo fatto comunque vediamo dai no non mi non mi piace la roba delle scelte delle scelte no allora c'era un'altra domanda per te davian 77 dice che stile di combattimento usi in final fantasy ti consiglio classico lui dice ho scelto l'altro per il momento cioè standard standard bravo tu hai giocato questo l'ho iniziato ma non l'ho giocato per ral per giocare altre robe però ho finito da poco il sette sono gli stessi gli stili di praticamente ai due livelli di difficoltà all'inizio poi dopo ne sbloccherai un'altra i facile e normale mi sembra ce n'era anche uno più difficile già all'inizio potrei confondere con personale però mi sembra di non avere ma non metto mai più difficile ce lo diranno sicuramente adesso in chat in final fantasy 7 remake che ce n'erano due di livelli di difficoltà e uno lo sblocchi quando finisci il gioco mi pare sia così pure pure in rebirth e per ciascuno di questi due livelli di difficoltà puoi scegliere la modalità classica di combattimento classica cos'era però che sceglievi da menù tipica da final fantasy allora nei fatti non cambia praticamente un cazzo tranne che se tu non muovi il personaggio il personaggio si muove da solo facendo robe di base e tu devi semplicemente scegliere le abilità dal menù ma tu devi comunque scegliere abilità dal menù anche non fai il combattimento non non fai la parte azione in tempo reale ma attenzione se tu se non la fai cioè se stai fermo te la gestisce lui ma se tu ti muovi col controller nel frattempo è uguale all'altra praticamente non puoi stare fermo cioè non non c'è la parte in cui stai fermo e lui sta proprio fermo e questa è l'unica differenza qui anzi ti conviene falla provala perché così se qualche volta tipo non vuoi oppure per capire cosa farebbe lui diciamo a questo para in effetti mette a parare forse qua potrei parare no voglio saperlo ok 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 sì comunque davian dice meno incasinato classico più che meno incasinato ti permette di concentrarti solo sulle robe essenziali del combattimento vediamo potrei fare un test per me piace perché posso comunque sempre fare quello che voglio sì sì è buono però quella è la parte che mi è piaciuta già subito se devo dirti le prime ore nel remake ero impazzito ero esaltato di quello che avevano fatto le prime ore questo è più fiacchino eh parte più lentino ti fa giocare meno succedono cose un po sceme vediamo a tre ore se devo scegliere ho fatto tre ore di questo e tre ore di persona 3 è diventato il mio nuovo gioco da pirulan poi c'è stanotte ci ho giocato un'ora fuori e persona 3 ma super esaltato all'inizio cioè bello tono devo dire sembra molto un persona nuovo cioè l'adattamento che hanno fatto potrebbe essere uscito oggi cioè non sembra un gioco vecchio certo anche perché in effetti anche tipo perché ne so i persone usciti dopo era è più o meno così cioè migliore come tipo di fatto e poi migliora la grafica quindi però me l'aspettavo proprio più vecchio anche nel gameplay ora non so cosa hanno modificato cosa hanno sistemato però mi ha ricordato persona 5 cioè alcune cose molto simile molto veloce ci avrà un po più di rotture di scatole nei nel tartaro che sono i dungeon immagino però mi è sembrato molto sul pezzo ecco guarda chi c'è in chat guarda che non si vede serino vieni 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 ti aspettiamo vieni stai scrivendo stai scrivendo adesso tu devi rispondere che stai scrivendo e noi diciamo ma scrivi dobbiamo vederci a cena venerdì ci ha dato buca però però probabilmente gli sta sul cazzo teocrazia cioè la mia versione che odia teocrazia giustamente tu dici ci sta anche come cosa no non posso scrivere potresti venire a parlarci di un sacco di cose se arriva di forza motosport vieni vieni mentre scrivi ma questa cosa la dobbiamo fare sempre questa è l'introduzione della di expedition dei giochi di lavorare belli ma che cazzo mi è stata a far vedere tutto il gioco era sto trailer ancora è sempre lo state of io ve lo voglio vedere però levamelo davanti mannaggia al mondo hai giocato live a final fantasy 7 rebirth no ancora no perché poi quando gioco su playstation 5 o me la porto qua oppure devo giocare a 720p volevo vederlo un po caratteristico no perché a 720p per il no guarda per come si chiama il coso il remote play no fa la funzione a 1080 anche di l'ottanta non è 4k però ma non è mai 4k nella perché tu giochi a modalità 30 fps e ma che dici ho messo quella perché me l'hanno consigliata ma l'ho detto che l'altra no perché l'altra non va ancora dice che c'è le texture un po' slavare così è vero l'hanno detto anche a me adesso che ci penso la poi io a un gioco posso giocarlo a 30 lo sai che sono di bocca buona se è più bello graficamente devo dire che l'impressione così iniziale mentre il primo comunque era wow gra questo mi sembra avere qualcosa di non pulizia è molto bello quando arriviamo cinque minuti e vengo ha detto serino ti aspettiamo ti aspettiamo tieni e tieni d'occhio anche duvido il coso anzi tu la guardi no ce l'hai davanti quindi fantastico te ne accorgi allora ah sì le ospiti te lo dico e quindi ha fatto un impatto un po minchia i pg li noti proprio tanto che sono brutti c'è una scena iniziale ma quando nella modalità 60 fps in generale in generale quindi in generale sono brutti pg non li hai visti l'avevi iniziato i pg gli altri personaggi sono inguardabili a e gli npc npc sì penso di sì sì bruttino e la non li avrei usati nelle robe supernarrative così li devi camuffare un po secondo me giocatela meglio e c'è quel super momento in cui può far vedere un po e c'è quel personaggino che magari seppure incartato che cammina contro un muro c'è ho visto delle robe l'altro invece aveva fatto era più sporco l'altro nelle aree di collegamento però era molto più sorprendente su ps4 questo insomma sembra il mondo è figo non è proprio bello a livello di gusto molto più che questo è importantissimo però per me ci sta ci sta vedremo vedremo io ho paura che sia su mamma mia comunque quanta roba vito quanta roba da giocare da giocare quanta roba allora io sono i giochi grossi nome il problema mia sono quelli piccoli che sono un miliardo però almeno vanno via più facilmente però se c'ho questi grossi non c'ho lo spazio però adesso ho messo questi due persona 3 se ne va sul tapitulan più ore che sto a letto perché lo gioco a letto con fan fantasy sono passate le ore ma va un po da solo fan fantasy al momento non è una roba che devi stare il super cervello e più quattici mi giocherò gli indini secondo me posso portarmi a casa delle cose ma vabbè ovvio questo per forza poi ho calcolato non c'ho mille giochi in uscita grossi a breve e quindi magari in quelle fasi mi sono tolti grossi mi recupero con calma yakuza che invece ho un po messo in pausa a non ricordo se 15 20 ore posso controllare che c'ho un parecchi indi da giocare però e più c'ho i giochi semi infiniti tipo taxi life una roba che farei h24 anche se è mediamente un gioco inutile ho preso ieri invece i tre documentari interativi quelli su atari germinter e karateka prima o poi ve le parla non è come non li hai ancora consumati ma non avevamo già parlato non era noi sì abbiamo parlato noi avevo sentito parlare che erano fighi l'altro giorno mi sono commenti perché ho scoperto che c'era anche lì da convinto perché ho scoperto che c'è l'italiano a proprio l'italiano c'è notizia l'italiano poi dei giochi che parlano tu entri e giochi c'è proprio roba figa secondo me per come pensato il documentario il videoludico del futuro con un po anche di conservazione per l'idea è proprio bello sì mi piace un sacco infatti sta cosa e gli avevo preso germinter e karateka che adesso è sconto su steam per i saldi e poi ho detto prendo anche atari perché atari poi c'è dentro un miliardo di cose la fine spendendo bei soldi e tutti e tre non sono venuti pochissimo in quanto è speso tra i 50 e 60 euro credo per ok vabbè però comunque è una ventina a testa insomma mediamente sì perché karateka adesso sta di meno sta a 12 mi sembra in sconto vabbè fattibile dai cioè ci sta secondo me no no è bello sì le avrei presi a pacchetto un po di meno però vediamo adesso vedo come vanno questi se mi piacciono ci sta tutto il lavoro c'è dietro vabbè parliamo un altro po di persona 3 dai allora persona 3 persona 3 approfondiamo approfondiamo anche là sono a tre ore di un gioco che ne durerà un miliardo super bello parte più lento di un persona 5 persona 5 secondo me fa una roba fantastica nelle prime due ore ti spara dentro l'azione ti spiega tre cosette veloci ti fa capire il gioco ma nella parte prima di gameplay poi torni indietro poi fa il solito ricominciamo e ricomincia a spiegarti le cose mano mano persona 3 parte invece dalla parte piano piano e poi ci arriva a spiegarti il gameplay ok onestamente se non avessi giocato persona 5 avrei fatto più fatica ad assorbire il miliardo di informazioni che mi dà invece tante sono quelle robe là le ho già viste persona 4 non so perché ne ho un ricordo forse perché l'ho giocato parecchio prima non me lo ricordo moltissimo mi ricorda molto persona 5 però di brutto però subito è partito bene a livello di storia di trama d'azione quando ho combattuto è super figo persona è proprio bello da giocare proprio bello 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 veloce puoi stravelocizzato tatticamente c'hai varie opzioni per anche schippare delle cose si muove bene non si capisce un cazzo a livello di trama io anche dopo averli finiti non ci ho capito niente dei persone parto rassegnato ma questo è bellissimo però sta cosa è tutto molto onirico pazzo di questa dimensione anche un po parallela però stai dentro invece quello che succede nella parte diciamo meno onirica è super terrena è super chiara e tratta temi super complicati c'è persona 5 veramente parla di stupro di suicidio e anche questo parte a bomba quindi per me la serie della madonna da giocare poi ci arriva che io dopo 90 ore mi stufo anche un po persona 5 aveva una roba fighissima che era avevano creato apposta un'area di farming e tu potevi andarci in alcune giornate a fare solo quello e tu ti saresti divertito un sacco che facevi veramente solo la parte di combattimento divertente la facevi per giornate intere cioè non credito al momento il combattimento invece è un po bloccato dal la quantità limitata di sp i dungeon pensavo peggio perché persona 5 avevano trovato un compromesso bello in cui dovevi anche un po scoprirvi persona 4 invece era la roba che ti ci perdevi dentro questo sembra una roba tutta uguale proprio sempre dall'inizio alla fine ma non in cui non ti ci perdi un po banale da vedere non ti ci perdi e poi hanno fatto stato adattamento grafico che è figo loro fanno un art design design dei mostri dei menu di un livello esagerato si infatti ma anche dai anche proprio i caratteri design negli art tutto quello che si vede è tutto finissimo anche in combattimento vedi questo è un assalto di gruppo che ti dà un bonus in più se riesce ad attivarlo e tu ci provi a farlo è tutto riuscito alla perfezione dai quindi è una roba che mi gusto proprio anche a guardare tra l'altro ci sono i livelli di difficoltà io sono partito normale ma c'è anche facile quindi alla fine vediamo dove va a parare però se è normale è tranquillo niente niente solito telefonata spam marco jogger dice il problema di persona 3 è il dungeon principale una roba uguale identica per cento piani chiunque ha pensato che fosse una buona idea non dovremmo mai più sviluppare un videogioco pensa marco jogger come stavo dicendo per me meglio così perché è vero che è tutto uguale c'è lo vedi subito è proprio la stessa stanza in cui non t'accorgi neanche se sei stato un metro prima un metro dopo lo vedi sulla mappa che si crea ma tutto esteticamente veramente tutto identico però è meglio di un dungeon in cui mi perdo che devo trovare le stanze devo trovare il save come persona 4 cioè per me meglio così so che è tutto uguale amen non me ne frega niente poi è chiaro bisogna vedere anche quanti piani sarò costretto a fare di volta in volta però è giusto un modo somiglia molto a quello di farming di persona 5 che era tutto uguale perché andavi là solo a combattere nemici questo invece è il dungeon principale che è tutto uguale mastica cioè io ci vado là per combattere farmi fondamentalmente per arrivare ai piani più alti ci sono degli ascensori che ti fanno scappare a un certo punto ma puoi di cominciare da quello i salvataggi li hanno messi ovunque qua tranne mentre sei dentro proprio la parte esplorativa del dungeon e mi sembra che da quel punto di vista hanno sicuramente aggiunto delle robe di praticità nella vita quindi mi sembra una roba che che sta in piedi molto bene ecco era un po titubante per paura delle ore ma così mi smirano infatti ieri sono crollato sono stanchissimo sti giorni alla fine mi sono andato a dormire tipo alle 7 ieri sono svegliato però verso le 21 le 22 e mi sono messa di giocare a persona non mi ha preso andare di là a giocare a final fantasy sta vincendo su final fantasy 7 e rebirth impatto iniziale nettamente sta vincendo è proprio più più curioso più interessante di tutto questo è final fantasy onestamente mi aspettavo di più dall'inizio non è una critica o giudizio perché il remake secondo me partiva palla di fuoco per dieci ore era il gioco della vita che avevo sempre sognato tutto bello queste tre ore di final fantasy non mi hanno dato sti impressioni si gioca bene per carità di dio non è stata una grande idea giocarli insieme per il semplice fatto che sono arrivato il le mole di informazioni di uno e le mole di informazioni dell'altro e tutti e due secondo me te ne danno troppe senza capire esattamente dove le andrai ad usare quindi c'ho il vostro cervello impastato e già di mio tendo a dimenticarle perché ci mischio cose però vediamo persona non hai mai provato a dire adesso faccio un periodo in cui gioco un gioco alla volta per sfizio per vedere se mi può piacere di più faccio tre mesi in cui perché comunque ci vuole un periodo per capirla bene sta cosa fa tre mesi in cui non tocco un altro gioco se prima non ne ho finito uno ma in altri periodi della mia vita con meno tempo libero giocavo un gioco per volta è la novità questa per più o più tempo che mi provo più cose perché mi piace di più se sto tante ore su un gioco io ma no io proprio ma siamo sempre perché la mia fascinazione per i giochi è proprio sulla varietà di quello che vedo esatto molto più di quello che gioco e quindi se mi fai fare sempre la stessa roba tendenzialmente non cambia troppo ma morbo mi piace variare se finché riesco va benissimo poi non è che gioco tanta insieme cioè tendenzialmente ci sono dei limiti che mi do anch'io eh tranne i giochi infiniti tipo baratro per me non entra mai nella regola questo non giochi in altra cosa no questo sono d'accordo pure io per me la il problema nasce con persona 3 e fanno fanzi 7 contemporaneamente e non volevo farla questa cosa però c'era un problema volevo cominciare final fantasy ma sul tapirulana final fantasy era complicato perché ce l'ho qui in salone non c'era un modo per giocare sul tapirulana a meno che non usassi steam link per usare remote play c'era roba complicato in questo senso ok cioè quindi dico vabbè sul tapirulana mi gioco persona 3 l'idea di fare perché sul tapirulana tu che cosa hai a disposizione link xbox xbox dovresti portare playstation da collegarla di là però se non uso il televisore grande per quelle tre esclusive playstation che ascolano che cazzo ce l'ho a fare cioè mi sta bene giocarlo di qua no no ah no cioè portare ogni quando ti serve la console di la non ah no che padre vuole lo sai anche tu che non è proprio una roba no 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 assolutamente infatti farei la stessa cosa quindi capitolare persona 3 che è un gioco che si fa perché l'xbox non è sul televisore xbox quello no è sul televisore perché nella parte in una parte secondaria rispetto no non è secondaria perché l'xbox funge solo da spalla al pc per me l'xbox è una console inutile ovviamente avendo avendo il pc alla roba su pc se vengo a giocare qua gioco su questa postazione io se vengono alla parte che mi sono alzato dal letto dell'alo messa solo dico ok c'è il cross save se qualche volta voglio stare a letto me la prendo o qualche esclusiva game pass solo xbox mi gioco della roba a letto però metterla qua sarebbe nudi perché se sto qua gioco qua non vado in salone per me la postazione top proprio anche a livello di hardware è questa ma anche di monitor c'è qua per me è molto meglio questo monitor 48 pollici è un centimetro OLED che l'lg di là sto monitor mi ecce tutte le volte di là sto comunque più distante sto più scomodo per me questa è la postazione top quindi non giocherai mai con l'xbox è però di spalla e di là sta bene capitato qualche volta che ho fatto un po così così con forza con starfield era noiosissimo perché il passaggio di la sincronizzazione dei save durava un casino ma roba anche 10 minuti no pessima stagola proprio tanto se questa cosa mi annoia un po avete letto che la ps5 pro è leggermente più potente della versione base dice shepard 91 avete visto che ci sono dei rumor riguardo shepard 91 non è che è l'altro ci sono di tutti e due tipi c'era quella che poteva far partire un razzo della nasa e questa la sento adesso per dire questa però c'è anche digital foundry che un po' ne sta parlando del fatto che è più o meno come ps4 pro per ps4 e io e io cosa mi aspettavo vito già prima che se ne iniziasse a parlare una roba come ps4 pro per ps4 stai volando sul rumor vediamo no sul rumor no no dico perché dovrebbe cioè non mi a me aggiunge niente su rumor già è quello che mi aspetterei io non sono assolutamente interessato cosa può succedere tra l'altro di diverso che era molto più potente che facevi però ma poi quanto costa 2000 euro per essere molto più potente io ero più dubbioso sul farla se mi dici la fanno mi aspetta sì una roba un po meglio non eccezionale se la fai un pochino meglio per me ha più senso non me lo aspetto mai però se se mi dice ha più senso fare una versione molto potente molto costosa io sono d'accordo però già so che non è uguale pure io non mi aspetto mai che lo fanno perché non so perché sinceramente secondo me sarebbe da fare invece cioè io la metto sul mercato magari non è lì su loro si fanno i calcoli quante persone ci sono disposte a spendere tanto e quante persone ci sono invece disposte a vendere ps5 per ricomprare una versione un po perché col marketing ti muovi bene gli vendi che giochi tutto a 60 evidentemente se la fanno calcolano che quello è più credibile di uno che spende 900 euro per la console sinceramente io il mio interesse è proprio 000 su questa su sta roba qua ancora ogni tanto vedo la chiacchiera su a cosa serve visto che ancora non abbiamo sfruttato la console attuale questa parte qua proprio non capisco che tipo di pensiero sia lo capisco un po di più però quello che dici tu ha senso cioè se per qualcuno ha comunque senso e ci sarà sempre qualcuno per cui avevi senso e per sony quella nicchia è arrivato serino è quella nicchia è profittevole o vale la pena farla la fa però dire con quanti cazzo di giochi sfrutterebbe session 5 pro ha senso secondo me non è una stupidaggia grande serino allora serino intanto lo sentiamo già caraibi caraibi tutti da quanto tempo da quanto tempo veramente fra un po ti vediamo anche aspetta che intanto io oggi ho nove ore live già serino però io mi sono seduto velocemente sulla poltrona e sai quando hai pantaloni un po bassi e ti si scopre completamente il sedere faccelo anche vedere serino questo momento è il sedere completamente fuori dai pantaloni sento freddo eccolo qua caraibi scusate il desabiliere stai alla grande ma gli occhiali devono coprire qualcosa certo certo una partita di tre ore e mezza finita alle due di notte a arnak un gioco da tavolo pensa 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 che l'altro giorno a me è capitato di poter dire e no stavolta ho fatto tardi ho giocato fino alle due che sai che che è una roba che che già di suo già di così già così la frase se già finisce qui è ok ah minchia hai fatto tardi se poi ci aggiungi di pomeriggio cambia tutto serino secondo me non è del tuo partito se io fa le live alle 7 no vabbè abbiamo giocato un po a monster hunter insieme anche lui se ne è accorto che c'erano degli orari pazzi all'epoca vabbè tu quando è che giochi principalmente scusami di notte di notte di notte di notte sì sì di notte di notte ma io all'alba che io inizio ci sovrapponiamo probabilmente cioè tu ti svegli presto per giocare come fa esatto sì ho proprio voglia di giocare mi sveglio apposta presto io metto la sveglia la mattina non mi uccido mai la notte ormai sì per me parlavate allora mentre proprio stavi entrando stiamo parlando della mia sorpresa diciamo cioè non riuscire a spiegarmi chi chi dice e magari tu sei di questo partito ebbe ci puoi dare una spiegazione e già vito ci stava provando comunque chi dice che senso hanno le console mid gen adesso visto che ancora non abbiamo sfruttato questa qua c'è l'inizio di questa generazione per me ha senso quando sai che starfield esce e gira 30 fps dragon's dogma 2 esce gira 30 fps ecco qua già già va bene già va bene avere o già anche che spider man 2 che hai la modalità 30 e a 60 però qualche la 60 devi rinunciare a qualcosa quindi magari con con le console pro te le però è vero no ualo che nel momento in cui uscivano ps4 pro e xbox one x quelle console erano veramente tirate a al massimo cioè io la mia ps4 veramente faticava da ad aprire la dashboard mi ricordo a un certo punto quando con il gioco in in avvio no e quindi la situazione era totalmente diversa oggi si ha la sensazione che effettivamente se console ancora avrebbero moltissimo da dire e stanno tirando fuori queste pro perché serve a livello più commerciale no che per gli utenti poi logicamente chi c'ha i soldi da spendere vuole la massima certo quando cominci a dover spendere 600 700 euro boh secondo me comincia a essere un po un gonzo se quella cifra la spendi per una console e poi non non aspetti un po di più magari ti fai un pc soprattutto adesso però siamo alle storie quella è un'esperienza d'uso a cui magari non sei abituato e che la gente è anche molto spaventata dall'esperienza su pc anche un po figlia secondo me di vent'anni fa oggi sì sì perché oggi hai un pc oggi con una scheda decente perché è vero che già in ufficio c'è una 1080 ti è più la roba che crasha obiettivamente se non c'hai la scheda a livello tendi a soffrire un po di più e di più diciamo smalettare quei settaggi però in generale l'esperienza steam per me è molto simile a quello della console ormai sì ma guarda l'unico limite oggi è che non puoi accendere il pc semplicemente dal pad ma puoi tranquillamente accendere il pc e già iniziare a giocare non toccando ma se tastiera questo va ricordato poi è vero che sono esperienze diverse ma va ricordato questa cosa qua quindi ok ci sta pure che un con 700 euro cioè è la stessa persona che poi va a spendere 700 euro di console 600 700 euro è tanto per me non sono tantissimi però evidentemente non è vero cioè evidentemente sono e si sarà fatta i secondi avrà detto sti sti gonzi come li hai chiamati tu secondo me giusto no non li ho chiamati i gonzi ho chiamato ci ho detto che ci sarà qualcuno sicuramente che sentirà l'esigenza però comincia io un po ce li chiamo perché se vuoi fare quello pc master race con le console l'altro giorno ad esempio mattina parlavo madonna che cartonato guarda meraviglioso grande record non volevo disturbarlo se se stai lì a dire no io non ce la faccio giocare 30 per me 30 te vanno schifo però devi giocare su console secondo me stai proprio a metà strada tra non sai che cazzo vuoi cioè no console devi anche accettare un po i compromessi no io non sono d'accordo con voi non sono d'accordo con voi non sono d'accordo con questa cosa qua cioè secondo me console può significare anche voglio vorrei la potenza del pc come poter la potenza diciamo come dire una la direzione verso quella potenza ma senza rinunciare al tipico approccio da controlla i giochi è proprio come volere la moglie ubriaca e la botte piena no 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 anzi è ti è una già la console è mi piace giocare ai giochi elettronici ma non mi piace il computer come fatto e quindi facciamo la console la console è già un computer solo per giocare il telefono è un computer però per fare delle cose in un altro modo il televisore oggi è un computer per farti vedere le robe senza farti sbattere a fare il computer con la maggior parte delle cose tecnologiche che usiamo oggi sono dei computer l'orologio è un computer però per per fare delle robe in un modo comodo e delle robe selezionate la console è un computer per giocare ai videogiochi ma con compromessi a cui accetti per forza il compromesso non è dato dall'essere console il compromesso è dato al prezzo costo certo però a me interessa l'ipad per dire l'ipad pro costa più può costare più di un macbook in determinate configurazioni cioè è già puoi già spendere più per un ipad che per un mac già succede questa cosa però è un tablet rimane un tablet cioè c'è le cose da tablet te lo metti in mano e leggi e fai però può essere già più potente di alcune però non hai l'usabilità del del mac bro del macbook perché sono due robe diverse stessa cosa la console io voglio la console può essere più potente quindi può anche costare di più come ha fatto l'ipad l'ipad è arrivato a costare anche più di alcuni computer il problema sa che cosa qual è non so se ne avevamo già parlato il problema è che secondo me una persona ha scelto le console invece che del pc a parte per i giochi che offrono ok ma soprattutto perché come dici te allora costa meno è più semplice da utilizzare questo per me interessa tanto il problema è che queste cose qua se tu le porti allo stremo all'estremo no allo stremo vai verso il cloud perché non c'è niente di più semplice è quello che sto aspettando assolutamente è quello cioè la console è destinata in qualche modo a sparire perché la sua natura è quella il problema è che il computer cioè il problema il vantaggio del computer che può essere quello che rimane per non sappiamo quanto tempo ma sicuramente più a lungo delle console che esauriscono il loro ruolo di piattaforma per videogiochi più economica e più semplice perché non c'è niente di più semplice che usare netflix mi dispiace e il pc continua invece a essere quella macchina per entusiasta come li chiamano gli americani lettore blu ray 8k c'è pc è capito cioè puoi lavorare sui settaggi avere una roba figa agnostica dove giochi a tutto dove il gioco ancora lo puoi moddare eccetera è logico che per qua si fa però io ce lo vedo lo spazio per la console per chi vuole un po di più ma non vuole ancora pc mi aspettavo che fossero troppo pochi per per convincere sony a farlo in questo momento in cui i vantaggi li percepirai su pochi giochi proprio numericamente escono meno tripla grossi esce le console erano un po più di base più potenti rispetto alla ps4 dove soffriva di più e quindi per me le previsioni di sony sarebbero state diverse da quelle quindi c'era la possibilità che invece non avrebbero inseguito sto mercato evidentemente magari ripensi la distribuzione ricosta un po meno di quello con questa guadagni di più e dici che cazzo me frega butto e frego 200 robo all'uno e soccontenta lo stesso certo ci sta non è impossibile per me è possibile anche una ps5 pro pro la faccio ancora un po meglio prima di playstation 6 ditte dice di no se c'è no lì la paura è che accelerino in maniera sconclusionata perché la morte delle console definitiva sarebbe avere una console ogni anno secondo me eh devo dirvi però loro secondo me come dici tu serino ce l'hanno in mente che non c'hanno altri tre cicli davanti eh cioè playstation 6 difficile che non la vediamo ma quella dopo come ci immaginiamo è vero che le linee non sono da per tutto qua eccetera eccetera però uno steppino fra da qui a dieci anni quando dovrebbe uscire playstation 7 forse sono di più no se andiamo a contare una playstation 6 dura otto anni questa dura altri cinque sono tredici anni secondo me al livello di versione può essere anche può essere anche 9 10 dai cioè non non sai magari però però pure secondo me ps7 è più ps6 sicura ps7 punto interrogativo ps7 può essere la console per chi non c'ha la linea cioè tutti e ma la poi c'è una questione di produzione la faccio non la faccio eh cioè se è per poche persone non la faccio più non mi metto a produrre produco perché devo vendere tanti milioni però magari sono 50 per cento con connessioni minori 50 buone questo è ps6 questo è più costoso non lo so perché in realtà le voci in giro sono non sono così ottimistiche sulle connessioni ancora ma al di là delle connessioni il problema delle console è che sta emergendo un quadro assolutamente preoccupante che già emergeva da qualche tempo ma oggi abbiamo la conferma i giovani non le comprano non sono interessati non vedono perché devono non capiscono il motivo di spendere 500 euro per playstation xbox per giocare a qualche cosa che possono già giocare prevalentemente più o meno bene fortnite call of duty eh vari sportivi su cellulare eh o vanno su switch il pubblico super giovane eh che continua ad avere una pil più da giocattolo no che da cosa high tech cioè non è più visto come un oggetto indispensabile perché non è più indispensabile vedere i dischi blu ray a meno che tu non sia anche lì un un amatore eh cioè le console vendono prevalentemente al pubblico che ha comprato eh megadrive quando ci aveva nove anni super nintendo quando ce ne aveva dodici eh noi sì bolla dei vecchi rincoglioniti devo dire ovviamente quelli che conosco io di giovani quindi diciamo i miei nipoti e le conoscenze stanno ancora a livello console però c'hanno lo zio che c'ha sempre avuto le cose beh no no non ho inciso così tanto su quella loro passione per un motivo stranissimo avessi avuto io uno zio come Vito Iuvara sarei sempre dentro casa mia a chiedere di fare cose loro se ne sbattono un po eh eh però nel loro gruppo la loro idea è mettiamoci sulla console e chattiamo non è ancora un oggetto completamente avulso dalle no certo ci mancherebbe però è come un monogioco cioè però la console chattiamo chi è che accende un bambino oggi che accende la console per chattare ma vanno tutto su Discord Telegram ah se si telefonano hanno il telefono molto prima adesso quindi da un punto di vista c'è una ragione nintendo visto bastava un cellulare per parlare nintendo era avanti è come quando è uscito Wii e e aveva non aveva il cavo il l'ingresso per il cavo di rete ma solo il wifi in un periodo in cui ancora era un po' strano cioè nel 2006 il wifi potevi pure non essere attrezzatissimo in casa per averlo eh però basta andiamo così anche sull'online nintendo io sai che con gli anni ho capito dove vanno a parare tutto sommato c'ha ragione nintendo cioè se vado online dove sono gli adulti e trovo piene di persone che tacorono il cancro ah certo e secondo me una soluzione non l'ha trovata nessuno per evitare questa roba ah vabbè ma certo taglia i ponti nintendo ha tagliato esatto dice no io non posso gestire questa cosa e non voglio che anche un bambino che sono parte della mia utenza finisca in quella assolutamente e tutti devono ringraziare nintendo perché se domani c'è qualcuno che comprerà ps6 sarà probabilmente perché ha avuto un nintendo switch non certo perché ha avuto una ps5 una ps4 come ma poi aspetta aspetta questa questo percorso perché l'entry level cioè l'ingresso nel mondo videogiochi oggi alle elementari e prevalentemente attraverso switch sì sì non è che puoi arrivare direttamente a playstation no 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 perché manca questa parte c'è una critica al fatto che manchi questa appetibilità per totalmente ma beh manca totalmente mi dispiace per sony perché ogni tanto ci prova però non basta un titolo non basta un sac boy capito per convincere a spendere 500 euro per una macchina che poi alla fine non vogliono ma mediamente tu pensi che i genitori fanno questo tipo di divisione perché tu conosci ai tuoi figli ovviamente hai portato switch io conosco un po' i miei nipoti col cazzo che ti porto prima tutti e quattro i nipoti hanno avuto una console nintendo prima di entrare nel mondo dei videogiochi no io non no io non forzo nessuno vedo l'interesse che hanno anche mia figlia no no in generale però vedo vedo anche i compagni di classe io vedo i compagni di classe mi interesso perché facendo quello che faccio mi interessa no e vedo un approccio che è totalmente diverso da quello io a dieci anni li ho visti spingere per gta e non mi hanno ascoltato quando ho detto guardate che non è ancora il momento cioè per loro è la gta passo a quello se hanno un genitore che conosce secondo me partiamo soft e poi ok switch in questo momento è fortissimo ma non è proprio che se lo chiedono loro lo chiedono se lo chiedono loro in questo momento che è forte di essere pure forte è in altri momenti non è l'approccio del genitore di ciò che voglio portarlo verso certi prodotti rispetto che altri e proprio in classe mia figlia credo che uno abbia playstation gli ho fatto regalare ratchet and clank ora si è preso spider man 2 è uno solo è uno che sta sfondato di nome sky che è incredibile tuo figlio dal segreto l'apporto di un inserito infatti persona viene qui a parlarne capito perché non può comunque già finalmente parlo un po anche di mio figlio è uno dei più nerd è uno dei più nerd ma invece serino questo switch 2 cosa ti aspetti aspetti che siano in grado di replicare il miracolo di switch 1 perché seguono questo successo ti aspetti un cambio ma anche un passetto indietro secondo me se cambiano sono dei matti cioè i kamikaze non hanno avuto un ottimo effetto a perl'arbor quindi devo dire sarebbero dei sciocchi sarebbero assolutamente degli sciocchi cioè che puoi fare una console commestibile adesso hai la gallina dalle uova d'oro una roba che tutti pensavano sarebbe successa prima o poi no che il game poi diventasse una roba così sono finalmente riusciti a livello tecnico a trovare la quadra è andato così bene che fare una cosa totalmente diverso sarebbe uno però una console in continuità non è un rischio per quelli che se la sono comprata per gli indie e non sono pochi nel dire vabbè mi tengo questa è bisogno di fare lo stesso per tutte le console però ogni volta si dice per tutte le next gen esattamente però come dici playstation 5 pro non serve a quelle persone non gli serve switch 2 per me non è facilissimo che li porti tutti alla nuova console a meno che non la fai in continuità cioè dici tutta sta roba adesso non esce più ma a me è piaciuto molto a me è piaciuto l'approccio che hanno avuto con switch sono stati geniali perché switch dopo tanto tempo dopo wii e will succede la debacle di wii u è nato ed è stato comunicato pensando proprio al core gamer poi sono passati al piano bli al piano b che è iniziato super giù con labbo ok e lì a quel punto hanno iniziato a introdurre i più giovani ma sono partiti con gli hardcore con zelda con tutta una serie di titoli un approccio che era proprio per quel tipo di pubblico sarò molto figo e io spero che lo ripetano perché gli entusiasti sono quelli che corrono al negozio a comprarlo e poi si crea l'effetto valanga no attenzione che stanno seccando gli occhi a gualone no 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 ogni tanto ce ne capita la coincidenza con momenti di vita normale cartonato un po parte di me forse di base ormai no 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 ci sta allora effettivamente mi aspetto una linea fortissima per switch metroid 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 alla peggio un mario galaxy 2 piuttosto che un mario odyssey 2 secondo me già hai fatto lo switch tutti gli accord eh sì esatto esatto con me non devi fare neanche quella fatica cioè come me la vendi vuota io ma stai parlando di la possibilità che questi giochi escano solo su switch 2 questo non è impossibile non è quello il problema perché questa roba secondo me non ha fatto il 100 milioni di switch i 100 milioni di switch per una grossa fetta di pubblico l'ha fatta sui sui piccoli titoli che era diventata la console in cui si giocavano bandovasa 2000 indico uscivano tutti la le re le robe del passato molto più dei dei zelda che per esempio non avevano portati su view cioè del della loro linea secondo me quello ha fatto la grossa differenza per arrivare a 100 milioni e poi lo zoccolo 2 è stato comunque più alto di view e quella secondo me hanno meno esigenza di cambiare console quindi se una parte te la perdi su switch perché io io continuo a giocare gli indi non comprerò switch 2 magari non fai 100 milioni ne fai 70 no ma dico il metroid solo switch 2 per me è assolutamente possibile questa roba cioè se vuoi spostare lo fai esclusiva non solo un po meglio no lo devi proprio dire lo devi fare se 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 credi nelle generazioni esatto che la diceva cioè devi fare devi fare un bello devi creare uno spartiacque magari su un metroid siccome loro stanno sempre molto attenti se hanno fatto un annuncio su una console per esempio sugli zelda sta roba ci hanno tenuto sempre storicamente lo abbiamo annunciato su questa console ve lo portiamo comunque su questa console e poi facciamo la versione figa di là lo hanno fatto con uno zelda non mi ricordo quello su i due zelda ma in piedi esatto era anche per due wild bravo perché loro dicono te l'ho professo qua c'è solo persone che si sono comprati sta console perché deve uscirci questo gioco esatto metroid me lo aspetto mario odyssey 2 me lo aspetto invece che ti dica non è impossibile farlo girare su switch non te l'abbiamo annunciato su ca beh comunque i giochi già annunciati usciranno anche su switch i giochi non ancora annunciati però è solo metroid quindi metroid 3 4 esce su sì no che hanno annunciato su switch che non è uscito quello perché pikman è uscito quindi quello non è impossibile potrebbe essere il bread of the wild della situazione esatto potrebbe storicamente come si sono comportati poi le cose cambiano non lo da neanche per scontato però è una possibilità che loro dicano c'è stato questo annuncio prima abbiamo toppato noi e ve lo diamo però si vede eh diciamo l'utilizzo di che switch stia arrancando come ps4 a un certo punto delle sua della sua vita cioè si vede proprio eh la console che sta veramente al limite io quello che ho sofferto di più è stato baionetta baionetta 3 proprio ma anche perché concettualmente secondo me era sbagliato che l'avevano pensato stai facendo un gioco che deve girare su switch cazzo non mettere mille giganti su schermo il movimento che non mi ha fa non ce la faceva proprio con zelda per esempio non ho patito così tanto cioè tendenzialmente io che non sono un amante del nuovo hardware l'avrei sopportata switch se esce software che piace a me però se esce meglio a me cioè giro tutto un po meglio ringraziamo lord of the kind che regala cinque abbonamenti grande lord grazie è un abbraccio di anzi cinque abbracci digitali su pc baionetta 3 funzionava benissimo funziona benissimo funziona benissimo ci dissociamo dal funzionamento di baionetta 3 su pc emulato su pc no no io lo vorrei assolutamente io sono super fan dell'idea della liberalizzazione di tutte le licenze su tutte le piattaforme assolutamente comunque grazie lord per i cinque abbonamenti ringraziamo anche signor good che ha rinnovato l'abbonamento con prime per un totale di 14 mesi un abbraccio digitale anche a te e sì sì no no e come no come non mi piace poi baionetta in particolare baionetta 2 baionetta 3 per me sono giochi senza una casa nel senso che ce l'hanno ma è tipo un monolocale scomodo è in affitto è in affitto baionetta ragazzi è in affitto penso che il primo baionetta invece ha avuto delle edizioni fighissime per pc per console io ero su 360 al primo baionetta quando è uscito sì sì ed era la versione più bella era se la mangiava quella ps3 che da cui camia si era anche dissociato diceva ci ha pensato sega noi non abbiamo fatto la versione ps3 non abbiamo fatto la versione 360 però poi quando il 360 era la macchina di riferimento per gli sviluppatori sì e anche un po per i giocatori comunque certo certo e però poi è uscita la nuova la nuova edizione di baionetta per xbox one ps4 quella è fighissima quella è fighissima anche su playstation la bellissimo baionetta al suo massimo perché il baionetta 1 è un gioco libero baionetta 2 3 è schiavo del della roba nintendo è perché comunque molti dicono giustamente è uguale tutti lamenti di sta roba di baionetta ma se non era per nintendo non sarebbe uscita probabilmente è vero anche questo è vero anche questo però è vero che in qualche modo è stato costretto a cambiare no a lavorare attorno a quell'hardware a quel brand sì sì che poi baionetta 2 su wii u era anche ok assolutamente ok baionetta 3 su switch secondo me è bruttino invece a dici proprio addirittura bruttino tutte e due lo pensate a livello io non ho non sono a me è piaciuto a livello tecnico immagino a livello tecnico sì 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 a livello tecnico tanti problemi però in generale mi sono divertito poi io non sono un patito degli action di quel tipo li gioca bene studia impara le mosse tendenzialmente schivo e schiacciotassi a caso quindi mi sono divertito c'era un bel po di varietà alcune cose un po noiosette però quando si giocava figo con lei perché invece la la figlia già era insopportabile secondo me doveva giocare tutto di perry e io già non riuscivo a giocarla bene lei era veramente divertente da giocare mi sono stato divertito parlando di cose serie invece ho due questioni per serino uno forza motosport versione serino c'aveva ragione l'hai giocato qual è la versione serino quella è la giornata che è uscita adesso che ha fatto hanno cambiato tutta la progressione hanno messo la roba che le giri di corsa ti servono ma non è possibile non c'erano non è possibile non c'erano hanno ricambiato anche la roba dell'auto cioè adesso la progressione è diversa cioè puoi comprare con della valuta non capisco perché cambiare un gioco perfetto è questo quindi non l'hai provato no non l'ho provato ma di recente ho provato quel gioco che ha dimostrato come si fa con due lire una modalità carriera da paura che è new star gp ecco con due lire hanno fatto una carriera che è una lezione per gli ingegneri perché ormai non hanno più game designer no anche i giocatori dicono tutti questi qua e questi giochi deve recensire fisichella ma fisichella non ne capisce un cazzo di game design fisichella ti può dire si ammazza il cordolo super realistico che conta fino a un certo punto ma se il gioco non è divertente fisichella non ne capisce un cazzo capito qual è il punto però il problema è anche chi li sviluppa questi giochi vito perché sono tutti ingegneri che di videogiochi non sanno un cazzo sono abbastanza d'accordo sul mio star gp però devo verificarlo perché io l'ho provato quest'estate onestamente ma l'ha lasciato freddino tu ne parli bene le cose sono due o sei tu pazzo barra rincoglionito oppure l'hanno cambiato ma io ti parlo intanto della carriera la carriera naturalmente è ottima è fatta con due lire è quello il problema ma era bellino da vedere me lo ricordo è fighissimo è fighissimo perché ricorda virtua racing ha dei tocchi alla automodellista e poi da giocare proprio bello è un po come se avesse seguito un percorso particolare dal primo gp di joff cramond si arrivare a qua come se non ci fossero state altre cose in mezzo e ci arriva un futuro alternativo dove adesso stiamo giocando alla mica 5000 capito esatto esattamente è uscita la mica 5000 e gli inglesi ancora spaccano perché questo qua è fatto in inghilterra da gente che me l'ha presentato con la birra in mano gente che sa cosa fa cosa rendere come rendere un gioco divertente e eccolo qua giocato tutto dentro me lo ristallo perché devo capire se sei pazzo o no è uscito all 1.0 comunque nel frattempo la paura mia è che è cambiato perché all'inizio era un po grezzino vediamo la paura la speranza sì sì la speranza la paura sì la speranza si ha solo dei limiti dettati dal budget dal tempo e soprattutto una difficoltà un po altalenante però è bello molto bello la carriera è bella l'altra questione era più seria invece serino visto che non è provato forza ed è expedition parliamo un po di cazzo dei giochi belli non può sentiremo parlare solo di sto cazzo di elder ring e del dlc no ma aspetta no però prima scusa allora parliamo prima di questo cioè vito sta soffrendo per il fatto che il 21 giugno uscirà il dlc di elder ring e lui sta soffrendo da febbraio perché pensa che a giugno poi non si parlerà d'altro ma è possibile vivere con quest'ansia non è vero certo che se vai a vedere no quelli che parleranno inevitabilmente di quello o no cioè io vi voglio bene però secondo me state sopravvalutando il giocatore medio di sol slight che è tipo uno dei scintologi cioè passito è innamorato perché ma come fa a tangerti sente la puzza della versione pezzotta risononi che bello ascoltiamolo cioè non c'è proprio una roba un'apertura mentale ringraziamo questa bellissima community che invece ha i giocatori di sols migliori del mondo ma minca che è brutale quando ne parlate quindi no ma aspetta una roba da 21 tanto il tempo è pure giusto perché sarà giugno settembre pieno di gente tutta l'estate che fa le cazzo di clip in mutande eh sì succederà lo sappiamo succederà sì sarà così però cioè tu puoi rovinarti cinque mesi pure prima a pensare no però ci sto pensando cioè capisco che sarà tre mesi in cui dovrò spengere twitch cioè è un problema twitch lo metto in bianco e nero perché vede tipo uno di quelli che quando vince la roma non va al bar il giorno dopo no ma sai che blocco gli amici su twitter lo vedi lo vedi è la stessa cosa li tolgo perché se vedo le immagini di loro festosi sono infastidito io vi tolgo vi tolgo poi li rimetto due giorni dopo ma non voglio vedere la mia tagline giallo rosso vedi di brutto assolutamente è così il pello in un valbara oggi vado a fare colazione no perché ci stanno i romanisti che hanno vinto la coppa e allora dice meglio che non vado è così la stessa cosa no se non vado perché parleranno tutti del ring perché cammi perché mia zaghi ha vinto la coppa ma è più o meno così cioè se perde la lazio io non guardo i gol della giornata non guardo questo da quando sono ragazzini cioè per me il calcio è morto se io ho perso la roma e qua se quando vince la coppa roma è peggio devo dire che è un po peggio di una sicura partita però mi aspetto questa comunicazione un po esasperata in cui escono fuori delle convinzioni appresso ai souls che io trovo mediamente insopportabile c'è quello che odio perché il giocatore non tutti questi di questa comunità sono meravigliosi però alcune di questi giocatori sono questa roba del ciuffo d'erba che racconta una loro meravigliosa è tutto bello il gioco che è perfetto non puoi dire niente e secondo me banalmente non è vero senti vito io non ho capito perché ma mi sono trovato nella lista desideri di steam espresso tycoon che sta pure almeno 40 per cento è buono non ne sai nulla molto positiva dicono però non mi fido no invece tu ti dicevo stamattina in live stamattina ho fatto sei ore di raggi serino perché c'è stata prima la mattina e poi multiplayer di ti devi far mandare serina è importante per me jr train simulator devo perché dovrebbe essere come quello di e jr sono proprio le linee giapponesi le fanno loro sa che i filmati però è bellissimo vito perché non lo sto cercando magari lo conosco non me lo ricordo no devi proprio consumarlo gli are is tra roba tua simulator jr esatto se non è che si è fatto con le immagini ed è tipo descia de go credo le meccaniche però mi c'è un sistema di monetizzazione insopportabile tipo 30 euro di fai una tratta di un'ora e poi devi pagare altre tratte da un'ora per 50 euro luna cioè sono 600 euro di dlc però tu te le fai mandare gratis e ci spieghi se è descia de go editore east japan railway company cioè l'editore è veramente ferrovia dello stato ce l'hai gli agganci serino dai mi stai dicendo che l'editore di questo gioco sono le ferrovie dello stato già sono loro sono loro è praticamente il software loro ma è bellissimo ma guarda quanto cazzo sono belli filmati io sono eccitato da mesi da quando l'ho scoperto comunque anche descia de go aveva delle uscite così con i filmati eh non era proprio descia de go era una serie alternativa bella con le roba donna erano con lo stesso controller ma era una roba diversa certo è bello veramente io lo voglio ma quanto costa no costa un botto per un'ora non mi fido poi magari non si gioca che vuol dire per l'hai sottotitoli in inglese che vuol dire per un'ora c'ha il viaggio di un'ora la tratta di un'ora cioè che io pago 29 89 c'è un'ora di gioco no ti puoi fare quella tratta di un'ora 80 volte il biglietto del frecciarossa da roma a napoli costa di meno però ti fai solo quello che se lo guardi per vedere un po il viaggio ovviamente dopo una ti fai stupato e poi devi comprare tutte le varie tratte e tutte sono vendute circa 30 euro 35 40 infatti il voto è basso su steam perché si lamentano tutti della monetizzazione ah certo certo però se funziona come descia de go super facile tra l'altro c'è un fix ma io lo vorrei super difficile una roba del genere no io voglio la descia de go voglio una roba easy che capisco non voglio un simulatore della madonna ci stanno su pc sono troppo complessi sono troppo noiosi da imparare voglio una roba la descia de go però devo serbi tu che te lo fai mandare lo provi serino dai fallo per bello è bello è bello filmati sono bellissimi è bello veramente da serino fattelo mandare proviamo ma le rai giapponesi scusi le ferrovie dello stato del giappone c'è anche un fix per far funzionare il controller se c'hai quello switch serino su pc ah ok ok al controller di densha quello di switch però perché non so perché non li fanno più perché per esempio per ps4 è uscito il gioco ma non hanno fatto il controllo sì sì è perché una serie un po così in disarmo eh ma sì 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 io l'avevo comprata su playstation 1 cioè la roba mi ha fatto la roba dei giochi di lavorare per me non è nuova comunque la fascinazione ce l'avevo anche su playstation 1 ma senti ma invece expedition ti sta piacendo allora eh non ho giocato un po comunque sta roba è bellissima eh cioè io mi ero perso ho fabbriato questa deviazione più dentro sto piccolo centro cittadino è fantastico e poi se ti piace l'idea di visitare il giappone figo ho giocato un po e a me la formula fatti solo la parte divertente del viaggio mica dispiace ma no ma infatti ci devo capire un po un po di accessori li ho trovati a volte un po noiosi da usare a volte un po scemo ovviamente vabbè i minigiochi degli accessori sono abbastanza semplici niente di che sono semplici infatti pure un po banali da fare di installare di vedere l'animazione insomma però la parte di movimento è una figata secondo me anche meglio di scouting è prevalentemente scouting questo rispetto a snow runner che invece è trasporto le missioni secondarie fighe ce le ha se vuoi andarti a caricare uno l'interfaccia è un gioco di merda mamma mia c'è alcune cose proprio imbarazzanti c'è la ma questo che mandi avanti il tempo ma non c'è l'orologio se non arriva uno a dirmi guarda che va avanti il tempo dico che sto schiacciando sto tasto perché non sono no 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 interfaccia utente fallimentare poi quando la capisci bene io adesso per esempio ciò prendo le secondarie che dovrebbero essere le robe più fighe tra l'altro perché proprio lati trascini ma non capisci dov'è la secondaria che devi fare che stai seguendo perché lui ti mette i mezzi e non è che non la capisci perché sei scemo è perché è proprio detto male spiegato male è da gente che fa lavatrici non soffre di persone che fanno lavatrici che stanno migliorando ma è quello fanno e quindi lui c'ha questi mezzi messi là che magari sono 10 secondarie non capisci quale devi fare in quel momento o come farle se poi è tutto confuso anche snow runner era così poi l'hanno un po migliorato rimane confuso qui è sicuramente un passetto in avanti ma partono sempre però è proprio figlio c'è divertente vedi c'è più modi per aggiustare le cose le missioni cambiano anche a seconda la sa c'è comunque mi sto divertendo secondo me la parte divertente è rimasta manca un po la parte di gestione del mondo che era pure una volta che avevi capito trovato il mezzo giusto è più hardcore quello questo qua diciamo che è più accessibile ma era hardcore finché non sa non c'avevi mezzi quando avevi trovato il mezzo che per i comprati in russia snow runner era vai dritto eh cioè non sono del tutto d'accordo però sicuramente è diverso l'approccio guarda quando mi hanno fatto comprare un mezzo in russia ho mollato il gioco perché era veramente non ti fermavi più nel fango era troppo forte e no a che certo punto poi devi comunque gestire più mezzi no devi proprio spostare le macchinine c'ha questo aspetto snow runner che qui è stato totalmente eliminato giustamente perché non spin off però è bello pure l'approccio più naturista no sì è più bello da vedere più picco non lo trovo comunque ben faccia mi piace una scelta capisco che vuoi farle tutte e due però è carino cioè secondo me bello bello ed è bellissimo anche il fatto che abbiano messo le pestilenze dinamiche in crusader kings 3 è bellissimo che abbiano messo i mechi nel divers 2 è bellissimo che continuano ad aggiornare war tales è tutto bellissimo e devo dire che io adesso caro gualone ogni volta accendo steam un tempo sbuffavo quando trovavo un aggiornamento oggi adesso prego le mani sono felice sono felice aggiornatemi tutto sì novità novità ogni cosa c'è di nuovo è una sorpresa bello sì 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 giusto giusto ragazzi è stato bello non vi disturbo oltre saluto tutti e serotto grazie per essere passato ciao caro buonasera quando voi siamo qua lo sai mercoledì caraibi caraibi un beso un beso caraibi aspetta che non so come si chiude ecco ciao caraibi 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 grande serino va bene sempre una chiacchiera fantastica e allora vito devi anche recuperare un paio di robe tipo quello che aveva trovato quello espresso mettimelo adesso ma già mi sono dimenticato ho cambiato espresso tycoon esatto ha presso tycoon gioco gestionale di caffetteria perché io non lo trovo colore mettimi mettetemi in chat il titolo per favore espresso tycoon dovrebbe essere sta roba ma espresso proprio espresso perché ho provato la demo allora aspetta cioè espresso per me era un gioco di treni cazzo gabriello vence intanto rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 12 mesi andando a sbloccare il platino grande gabriello vence grazie parlava maggio digitale dici di no no di questo del caffè io non mi sembra roba questo è proprio il gioco di lavorare non brutto e magari per questo ne parlava di lavorare sembra roba del tutto sua vabbè rimanere da te diciamo è vede uscito sta roba di non sono segnato però me lo provo ne ho provato un altro nello steam fest che era proprio carino carino però era un po più verso come cazzo si chiamano cui ma ma aiutatemi quello cooperativo di cucinare però in singolo come si chiama quello cooperativo di cucinare dai volone no so ma non lo conosco io cioè ho capito quale ma over cover lo chiedo 20 volte al giorno ma perché questa è ci hai giocato pure no ti piace bel gioco bel gioco pazzo però per perdere degli amici cioè se vuoi litigare con un amico chiediti di giocare insieme a over cook e ti uccidi e poi non vi parlate più funziona veramente una roba in cui devi veramente coordinarti e figo però se c'è l'amico stronzo che gira a vuoto puoi uccidere e c'era uno di allo steam fest uno di caffè che dovevi preparare i caffè robe così gestione di un bar in singolo che era più o meno barista simulator che ha nominato jan 518 non so se esiste non li provo tutti ste robe alcuni sono terrificanti barista simulator non so neanche se ci sia sì sì esiste certo certo c'è quel tale ale che ci gioca addirittura a barista simulator è questo qua questo c'ha più la faccia dei giochi brutti che ogni tanto jan ci ha passato 50 ore attenzione 50 ore eccolo qua barista simulator e questa a me vi blocca che sia veramente orribile e vedevano essere un po più belli di così però l'interfaccia mi sembra esattamente da quella roba la è esattamente lo stesso motore se sarò tutti ha lo stesso volo nettamente sì però questo è un po proprio grezzo grezzo per dire ho provato una roba di agente immobiliare ualone era fatto se mi dai in mano a me dreams ce lo faccio io quella roba in cinque minuti e tipo andare in giro e c'era davanti alle case trovavi l'agente immobiliare tuo rivale che stava in costume la donna in costume c'è delle robe senza senso stupidissime orribile da guardare mi pare si chiama 6 state agente simulator è un guardato comunque mi piacerebbe se mi piacesse giocare su pc mi piacerebbe giocare su pc perché c'è la postazione già non lo so c'è più roba la roba un po più pazza dovrei mi dovrebbero mi dovrebbe passare l'interesse per trofei e obiettivi e per il fatto televisore divano eccetera e perché pc io secondo me è proprio più comodo ancora se è sulla scrivania non è che tipo il pc sul televisore beh no no proprio pc pc cioè scrivania gioco a pc io l'ho lo uso il grosso più come una console cioè mediamente io uso pad e mi sposto intanto c'hai mouse e tastiera appoggiati lì a portata di mano esatto è bello perché ci faccio altre cose a me piace giocare mettendomi a so sky go e faccio il telefilm varie cose di questo tipo però al livello proprio di gioco per me è quasi una console è proprio rarissimo che gioco a mano se tastiera negli anni 90 eri pc sta dice gabriel udens totalmente ed era una goduria cioè era bello per me era la scrivania però negli anni 90 non c'era tanto il gusto dell'home theater della postazione figa col televisore figo i televisori erano a quattro terzi erano una merda ma poi il pc era insopportabile cioè io mi ricordo quel momento era ancora dovevi installare in pad dovevi settare tu i comandi cioè non era per me il momento mi piaceva pensa eh no per me il momento pad che si autosetta è proprio il momento in cui puoi interessarmi un attimo ci dalla chat ci invece segnalano un gioco che non conoscevo chi è chi è che mi ha un po' eccitato però mi sono tipo venuto in faccia vito e cod che ne pensi di blockbuster inc seguito spirituale del capolavoro the movies di lionel io the movies ci sono andato abbastanza sotto all'epoca ma ti dico valore non tanto nella parte gestionale che ho giocato poco e era carina ma nella parte fai filmati era era grezzissimo un po bruttini però potevi creare il tuo film usando degli effetti cioè l'idea era nel gioco che potevi fare anche questa roba di creati il filmino e tfp fece dei concorsi c'è delle robe e quelli bravi ci facevano anche delle robe bravi c'è fatto oggi un bel software con delle animazioni un po' più fighe di quelle che erano scene sarebbe della madonna però questo è proprio solo la parte gestionale forse penso di sì non lo so eh vediamo comunque era bella eh cioè the movies era bella la parte gestionale era tu che facevi film qua fai lo studio era anche in the movies sta parte qua i set e poi all'interno potevi giocare e farti il tuo filmadino che non so se c'è sta roba però io se gestionali ne gioco pochi mi piacciono sulla carta probabilmente avessi le giornate da non fare un cazzo giocherei anche sta roba tipo quelli di Frontier mi impazzisco a guardarlo tipo Planet Zoo mi fa impazzire cioè proprio vorrei star lì a impararlo questo invece non mi dà grande ah questo mi incuriosisce poi magari mi piacciono più altre cose però è il problema a questi giochi gli devi dare proprio il tempo questi giochi vogliono parte della tua vita tipo la roba che giocherei nettamente è City's 2 Scaline l'ho pure iniziato era pure spiegato bene partito una figa però gli devi dedicare la vita non porti a casa di niente non ci puoi giocare un'ora al giorno un'ora a settimana non funziona the movies combattevi contro l'alcolismo delle star fosse uscito 5 anni dopo nel post youtube sarebbe stato un cult dice serino variabile che comunque continua a scrivere in chat non ci non riesce ad abbandonarci Vito non riesce dici se era espresso tycoon era espresso tycoon era quello che stavamo guardando prima espresso tycoon per me non è mai espresso tycoon il tuo gioco lo dicevi tu ah no espresso tycoon non lo conosco non lo conoscevo the movies poteva funzionare meglio se c'era la potete rilanciare Vito c'è questa cosa delle deduzioni no che uno gli dice proprio una roba precisa ma va ma non è mai quello che stai dicendo tu ma sarà un'altra cosa direttamente no perché pensavo roba di treni per lui non questo qua non ce lo faccio no quando ha detto espresso sono andato a vedere era questo ha pensato Vito che gioca tutte ste robe di lavorare di qualunque tipo eh però questa le devi bazzicare questo mondo per conoscere espresso tycoon che proprio t'arriva tra le robe più facili adesso ti tocca Vito ora devi giocare espresso tycoon beh visto che è un po' gestionale non lo so poi mo ce l'ho da giocare aspetta devo giocare mille cose anche Massive Drive vedi potevamo chiedere Serino rientra te ci balli di Massive Drive porca troia intanto stai a far cazzo Serino dai intanto Lord of the Kind regala un abbonamento di livello 1 a Serino è giusto grande Lord of the Kind che fa gli onori di casa grazie beh l'avevo letto però Serino che diceva un po' di palle eh un po' di palle Pacific Drive e tu ci volevi giocare Vito? no io l'ho comprato ah lei proprio ha comprato la parte iniziale mi ha anche entusiasmato sembra interessante vediamo 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 comunque The Muis poteva essere figo però doveva essere un po' più bella era veramente grezzo 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 nelle animazioni cioè quando facevi il tuo film se cerchi su Youtube secondo me qualcosina la trovi anche quello dei film fatti figli con The Movies era un po' limitato nelle opzioni le animazioni dovevi un po' sbatterti però era bella l'idea di te che facevi il film perché poi era il momento in cui ti ricordi si facevano anche i filmati con Halo 2 sì c'era uno bravo che faceva una serie molto famosa era il periodo Machinima bravo bravo ma è vero perché sul passato sei forte certo assolutamente lo sappiamo vabbè comunque Pacific Drive dai non farti smontare no ho capito che andando avanti diventa molto ripetitivo e noioso di lavorare che però quando a me mi dici questa cosa cioè mi dici intanto non dura mille ore ma mi dici c'è una parte in cui devi fare sempre la stessa cosa se quella roba da fare a me piace a me mi hai convinto del contrario c'ho più voglia di giocarlo devo capire quanto sia noioso da fare quella roba però se a me mi fai il gioco vai lì se Starfield fosse stato davvero vai lì e spacca minerali e hai un premio e hai una nave figa io sto ancora a spaccare piedi in Starfield molto più di parlare con gente di cui non me ne fotte niente vuoi che ti spacco piedi e mi dai la nave figa ok poi la nave più bella è il combattimento quanto ore vuoi che spacco piedi io spacco piedi spittim spittim cioè non è un problema vi ricordate 3D Movie Maker Wallone ma che è quello di Windows si sembra più una era il programma di Windows per fare i film sembra il nome di un software per fare i film si però no non me lo ricordo Alex no ha solo 3D quello di Windows quello di Windows era Movie Maker ok senza 3D io ancora uso Paint figurate per me l'altro è rimasto io non c'è stato ma proprio per fare i film lui usa Paint tutti i frame i film non ci sono arrivati invece Wallone per fare meglio indovina di G sai che disegno le cover mi manderanno regalata una tavoletta ma questo è fantastico anche se un po' Vito dove sei? sei risparito un altro anche se è un po' sprecata come roba perché con l'iPad lo puoi fare benissimo posso mandare la tavoletta con iPad? no non tanto la tavoletta ah perché tu lo devi passare al PC? eh sì perché si deve vedere mentre disegni sai che forse non è impossibile non è impossibile non è impossibile però questo ragazzo ce ne aveva una in più ha detto che la mando prendiamo la proviamo certo poi c'è per me una tavoletta è sprecata a prescindere cioè io disegno come un bambino di 5 anni Alex dice che non ce n'era alcun bisogno le tue copertine erano perfette sono abbastanza d'accordo diventa più divertente lo fai meglio e quindi ne puoi fare più spesso ed è meglio era più difficile da fare con il mouse a 80 miliardi di DPI sparato a mille su Paint vediamo secondo me io disegno cioè ragazzi sono meglio l'inglese di come disegno assolutamente questa cosa è evidentissima ho avuto proprio il miglioramento rispetto a un bambino di 5 anni però le copertine sono uscite i capolavori incredibili ah ti dico tu Valone che c'è conoscenze e dobbiamo andare a Netflix a vendere questo format si ok tu ti prendi i tre migliori che è la tua cosa e io faccio i miliardi a vendere il format di disegno vabbè no i disegni Valone indovina di G c'è tutta la roba il format dei disegni c'è anche i disegni non li ho banalizzati ah no no perché tu c'hai pure le mosse da mimo eh sono mille cose certo sono tipo dieci giochi adesso diverse certo va benissimo Vito lo sai basta che mi dai i tre milioni esco e rientro amici dove vai? è la voce dicono nessuno a voi Borg Borg eh proviamo proviamo che succede eh allora per per Starfield dice Albi RX sta sta prova 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 meglio a me va bene eh tu mi sentivi bene pure prima però sì cioè meglio meglio va bene per Starfield devono fare una benedetta espansione che introduca l'economia dice Albi RX con le tratte commerciali tra gli avamposti i vari listini prezzi che cambiano in base al sistema solare e la possibilità di gestire una flotta commerciale una richiesta bella specifica sì giocate Elite Dangerous Albi eh no secondo me Starfield per quanto lo cambia adesso puoi migliorarlo è morto Starfield è un po' ma è una roba single play io ho stato uno di quelli meno critici secondo me c'aveva delle robe super interessanti e per me è il loro gioco migliore pianettamente anche per per fascino però c'aveva delle stupidaggine non puoi fare un mondo potente gioco migliore però vabbè per me mediamente gli altri facevano cagare come questo cioè tutta la parte di alcune cose per me facevano cagare prima e fanno cagare adesso questo le fa meglio la roba degli interni qua almeno sono belli i pianeti dovranno essere un po' più fighi probabilmente farne di meno farli un po' più belli alcune cose brutte da guardare questa roba per me è inciso tanto sul giudizio e poi alcune stupidaggine non puoi fare un mondo in cui arrivo nella città e non c'è una mappa a terra che non capisci dove andare devi ricordarci c'è veramente delle stupidaggine forti a livello di interfaccia è pesante secondo me ma questo però secondo me lo rende peggio per me dei giochi precedenti no l'interfaccia era peggio anche prima è terribile no c'è la mappa però chiarissima è chiaro però erano un po' se erano più piccoli da sorpassi però sì la mappa era ci sta cioè questa roba non la vedo più in nessun gioco cioè gioco a persona infatti per me è stato proprio spiazzante cioè per me è stato un peggioramento rispetto alle robe precedenti sia per l'assenza della mappa sia per il fatto che era tutto spezzettato vai di qua vai di là però a te non ti piace lo spazio per me comunque muoversi nello spazio con i combattimenti no ma no come dice Passerotto è fatto non c'è il fascino della scoperta che tu passi da un posto all'altro così mentre invece tu là potevi camminare per ore e volendo non smettere mai cammini entro nella grotta esco perché ho visto la grotta perché ci sono capitato per caso non è che vado sul pianeta perché mi ci manda la missione allora compare nel menu seleziono e vado proprio molto peggio per me no no che quella parte sia peggio sono d'accordo per me però è proprio figlia anche del genere che è cambiato cioè del non del genere scusatemi dell'ambientazione che cambia che la devi spostare da un'altra parte hai perso quello hai guadagnato i combattimenti con le navi che erano divertenti invece e un immaginario che se te la giocavi meglio di come l'hanno fatto loro perché se parliamo di confusione loro hanno veramente secondo me tagliato e rappiccicato questa roba del movimento perché hai delle istruzioni per farlo in un modo ma poi ti muovi da menu era tutto molto banalizzato la roba invece di esplorazione c'era nel visitare mondi molto diversi e secondo me quel ritmo lento quando arrivavi in un mondo diverso era comunque interessante non era ho visto la grotta amici in filo perché invece quella roba era molto banale molto uguale come lo era però se andavi proprio ad analizzare anche in Oblivion e poi Skyrim non era così Oblivion era invece molto proprio tre tipi di dungeon che trovavi in posti diversi Skyrim se la giocava meglio però era un po' figlio proprio dal fatto che era più omogeneo perché stavi in un unico mondo questa roba non lo potevi fare dello spazio cioè io accetto questa roba e in più c'era una cura nel dettaglio negli posti che era proprio figa cioè quando arrivavi in dei posti anche nella trama principale legati al nostro pianeta Terra era molto bello secondo me molto ispirato mediamente però era come nome Sky il pianeta era brutto questa roba per me non è mai tollerabile proprio cioè io avessi avuto il piacere di andare a vedere questi mondi ne avrei visitato di più se fossero stati belli anche senza farci niente solo per vedere un mondo figo con gli animali fighi nuovi questa roba è mancata secondo me gravatamente ed è una roba che lo peggiora a livello di storia secondo me non se la gioca neanche male è chiaro che è una struttura molto a cerchio cioè vado là prendo l'artefatto vado là prendo l'artefatto porto gli artefatti allora porto i fatti vado là prendo gli altri artefatti però dicevano cose interessanti c'erano belle intuizioni narrative tutto un po' rabberciato come fanno i giochi loro secondo me non è vero che Skyrim era un gioco perfetto ecco aveva delle robe fighe da una parte e ne aveva perse delle altre no Skyrim è l'imperfezione però nell'imperfezione c'aveva quello che a me dispiace di Starfield è che quella roba là si è persa poi magari non devo pensarla così esce di Elder Scrolls 6 che invece è in continuità con quella roba là e io sono contento e questa voleva semplicemente essere un'altra cosa ma un po' loro hanno fatto pensare sarà il classico gioco Bethesda Game Studios quello che vi piace dei giochi Bethesda Game Studios qua ce lo ritrovate invece per me ha fallito proprio completamente questa parte qua ci sta se era quello che ti piaceva però non riesco proprio a immaginarlo come potevano farlo lo facevi su un pianeta e vaffanculo ah ok c'era il tema dello spazio della colonizzazione delle robe magari che ne so andavi sulla luna di quel pianeta ogni tanto c'era sta roba si parlava c'erano gli alieni che arrivavano però l'esplorazione era sul pianeta per me doveva essere quello di sto trailer hai visto che un secondo fa c'era quell'animale figo tipo di dinosauri cioè doveva arrivare in un bel pianeta anche se non c'era un cazzo cioè che invece a me quello l'avrei accettato però se avessi trovato questa fauna figa oppure questo oppure non escai quello nettamente cioè ogni pianeta scopriva un ecosistema figo da guardare in cui magari c'era una roccia particolare e me l'andavo a prendere solo là questo l'avrei proprio accettato quello secondo me lo fallisce però altre componenti altre componenti sono anche più fighe anche lì lo sciacallo dice che come scrittura è più bello Starfield sono abbastanza d'accordo non dieci spalle non esageriamo no io mi fido di voi in questo non l'ho cioè sarei dovuto andare molto più avanti per cercare di farmi un'idea e ci sta magari anche che ne so come si spara è più bello no? sì e no no secondo me da quel punto di vista siamo là anche quello sparo è troppo grezzo con un IA tutta rotta non si è aggiustata mai però ti stavo dicendo se ti piace lo spazio in Elite che è il mio punto massimo di riferimento per i giochi spaziali non ci scendi sui pianeti cioè la bellezza è proprio muoverti il movimento il controllo dell'astronave che qua non c'è quindi a me quella roba non è mancata sono mancate altre cose cioè non poter ci fare magari una carriera in cui come diceva Albi vai a fare cioè fare il gioco di ruolo questa roba nei giochi Bethesda si perde troppo per accontentare un po' i giocatori quindi tu è una cosa che non mi piace non mi piace né in quelli fantasy né in questo tendenzialmente scegli una carriera ma poi fai tutto e diventi un mischione no? quanto è più bella per me l'idea che io faccio una scelta e mi faccio sta carriera divento quel personaggio che vive quella vita se faccio il poliziotto non faccio il contrabandiere mentre tu alla fine fai tutto prendi missioni ammucchi tutto fai quello che ti fa sta roba a me non sostanzialmente non lo trovo affascinante V4Vendemia dice Walo c'è da aggiungere che non hai ancora giocato a Baldur's Gate 3 che a livello di esplorazione e senso di scoperta spacca i denti a Starfield sì ma non cambia la cosa cioè da Baldur's Gate 3 mi aspetto quello che dici ti sembra ancora più schifoso Starfield sì esattamente cioè da Baldur's Gate 3 mi aspetto quello ci rimarrei male se anche in Baldur's Gate 3 se neanche in Baldur's Gate 3 trovassi quel tipo di esplorazione ma me l'aspetto è ottimo che ci sia a me Starfield è piaciuto tanto dice il conte di Montecristo chi amava l'esplorazione tipo The Elder Scrolls o Fallout qua non la trova quindi confermato ma le storie che ci sono a me sono piaciute anche questo è un altro aspetto interessante di questi sono d'accordo anche a me però lo pidi come gioco diverso e te lo godi per quello che ti offre se vai a vedere però quel tipo di storie si somigliano molto con Fallout cioè a quel punto si unisce molto con Fallout lo spazio rilevante però secondo me anche nella trama principale fa delle cose fighe cioè io mi sono divertito ci sono bei posti e una cosa che non trovavo negli altri quando arrivavi in un bel posto gli interni erano talmente figli era bella vedere la nave cioè quello che quello che vedevi dentro degli avamposti le robe erano più rifinite essendo meno essendo più concentrate su delle robe mentre sui fantasy è un po' più generico ma anche nei Fallout secondo me questo è proprio più bello negli interni vedi qua c'aveva ste robe cioè ci provava ad essere la roba più figa io l'ho trovato proprio bella anche a me è piaciuto abbastanza l'avrei voluto meglio sì però mi sono divertito il problema di Starfield dice Lord of the Kind secondo me è esattamente quello di Forza Motorsport l'eccesso di realismo può non essere divertente non so se è questo sai Lord cioè se è una questione perché poi non c'è l'eccesso di realismo lui lo dice sui pianeti che loro se la sono giocata sono vuoti perché nella vita ah per questo per questa cosa per me quello è l'ultimo dei problemi del gioco cioè non è il problema per me non è stato che erano vuoti era che erano vuoti e brutti altrimenti io me li sarei goduti però sì anche là potevi giocartela con una roba lì è proprio figlio dell'idea facciamo le robe giganti però il divertimento scansiamolo a chi cazzo gliene frega di avere un miliardo di pianeti che non c'è niente fa la roba che è più interessante belli fanno i 15 pianeti sono belli da vedere e magari li fai come dici tu con un po' più di roba che puoi anche esplorarli magari non facendoli tutta una mappa di scadimi ma magari con una roba più chiusa con proprio una barriera finta come vediamo un po' più gai in cui ci trovi un po' di grottine se le fai 15 ce la fai invece di farne mille a che ci serve serve sia ad accontentare quel tipo di giocatore che vuole mille ore ok l'altri comunque allora c'è una devo segnalare una cosa c'è più vita su starfield di quella che mi aspettassi cioè c'è un sacco di gente che è emersa in chat a dire robe comprese persone che dicono che invece l'hanno apprezzato e questo è fantastico per me Alex Calopsia dice che addirittura questa è una una roba che io cerco che mi piace un sacco quando c'è nei giochi dice quella roba per me bellissima che non ti forza a fare nulla io ho letteralmente fatto il tutorial nel primo pianeta dopo 20 ore in cui era andato invece in giro per pianeti a fare cose e vedere gente un feeling rpg bellissimo in quel senso ottimo interessante e dronic dice che lo sta continuando a giocare tuttora pur avendo finito la storia e l'esplorazione dei pianeti continuo a divertirmi nonostante sia totalmente vero che c'è una ripetitività negli ambienti e una maggiore varietà avrebbe sicuramente giovato una cosa che mi piacerebbe vedere implementata sono dei veicoli per muoversi sui pianeti e invece a me sai per esempio quella è una cosa che è piaciuta cioè andarsene a piedi col pianeta ti dava un ritmo e un'atmosfera che secondo me il mezzo non te l'avrebbe data cioè quella roba invece dava vado veloce per completare faccio i tre avampossi a me piaceva stare a terra e camminare e vedere quel cielo non piaceva quello che vedevo però a me invece quel ritmo che ti dava la camminata era proprio figo era proprio una roba che ti dava una dimensione dello spazio e dell'audio del pianeta che era molto diverso come concezione può non piacere perché magari qualcuno si rompeva proprio le scatole però secondo me riusciva a dargli una personalità molto forte molto distante allora comunque c'era un altro messaggio a cui stavo pensando che l'avevo letto ma me lo sono perso e no è venuto pure in mente una roba mi era pure venuto in mente una roba che in generale comunque l'esplorazione nei videogiochi è un fatto figo non so se a te non ho capito bene quanto ti piaccia a te se ti interessa quando l'ho scoperta in oblivion sono impazzito ah com'era l'hai fatto un po' pure in cyberpunk però secondo me no cyberpunk era tutto da però ci hai tenuto a giocare quanta più roba possibile ho fatto tutte le secondarie tutte le robe e la mappa era bella mi piaceva camminare andare in giro però non c'era il posto che scoprivi e nasceva la missione c'era da menù lo vedevi lì era proprio bella la mappa in oblivion sono impazzito quando l'ho scoperto cioè l'idea che facevo oh ma qua c'è sto mucchio di roba era il mio primo RPG occidentale qua c'è sto mucchio di pietre bello ci vado dentro a vedere cos'è che cazzo succede e dentro c'era una roba che parlava per conto suo che non faceva parte della storia oggi onestamente non è gioco mille così non sono così entusiasmato anche alla fine di oblivion forse ero arrivato a dire vabbè però sono quattro modalità di dungeon a me piace molto di più quando mi dai un mondo e io devo scoprire come scavalcarlo cioè piace più l'idea di Breath of the Wild di Tomb Raider cioè io ho una mappa anche chiusa e non so come arrivare là però devo capire qual è il sasso qual è il punto d'appiglio cioè senza vernice gialla che me lo dice ma sapendo che quella roba là mi è utile per salire perché se togli la vernice gialla ai giochi di oggi in realtà tu c'hai un punto in cui puoi passare ai dieci in cui non puoi passare ma non è naturale che tu non puoi passare magari non scavalchi un centino perché ha deciso di no quindi non funziona mentre il mondo di Tomb Raider di Breath of the Wild è tu puoi fare tutto però devi farlo con il giusto vigore devi scegliere il punto giusto devi sapere dove puoi atterrare quella roba mi fa impazzire molto più della scoperta a caso perché oggi non lo faccio più gli dedico meno ore ai giochi ma in Oblivion che facevi quando te impazzivi per fare la libertà le cose beh l'ho giocato là era un'altra epoca della mia vita ci ho giocato 120 ore a Oblivion che per me era ma c'erano i momenti in cui andavi in giro senza meta tipo proprio tendenzialmente sì l'ho fatto anche Starfield cioè andare in giro per scoprire così la roba dal nulla mi è piaciuto farlo assolutamente ti ho detto sono proprio impazzito a me era incredibile che succedesse ma era incredibile anche come parlare con la gente ma guarda che oggi siamo abituati però andavo lì nel negozio e quello sapeva di che parlavo l'opzione che mi arrivava era molto nelle mie cose era molto quello che pensavo non era scontatissimo come roba sì e per me era oh ma io ho parlato adesso fino a con i cose dei Giapponesi ma a fine stavo parlando di marzo 2006 cioè una vita fa tra l'altro su 360 aveva mille problemi crashava perché quando si riempiva troppo la memoria di cash mi sembra che lasciava quindi cioè tu perdevi le ore a me no questo aspetto proprio così non te lo ricordo sembra che lasciava proprio tutta la console con Red Ring of Death quello poteva capire quello mi è successo un miliardo di volte comunque Oblivion io mi ricordo cioè veramente tipo che poi a un certo punto io l'ho invece indirizzato verso ah bello se faccio tutte le gilde faccio pure mille punti e quindi è diventato più una roba un gioco pure veloce tutto sommato è proprio brutto per me ma all'inizio no no ma all'inizio però cioè la roba di fai quello che vuoi vai dove vuoi mamma mia è bellissimo mi ricordo la partita di Audio Radar che non aveva era uscito dalla prigione iniziale e non aveva fatto niente di cioè non aveva fatto un singolo passo verso la quest principale giocandoci per 20-30 ore e facendo robe acquisiva magie fatti cosi ah qua in questa grotta c'è uno che non riesco a menare il minotauro esatto ah oggi compie 18 anni al BRX veramente oggi è uscito il 20 marzo 2006 ti ho detto marzo 2006 ma non mi ricordavo la data 20 marzo 20 marzo 2006 fantastico e sì no anch'io qua mi sono proprio saltato poi alla fine ho lasciato il finale ho visto la storia che non me ne fregava niente però anch'io io di solito così faccio comunque quando sono preso bene seguo un po' di trama poi mi lascio andare le cose mie quando mi va ci ritorno difficile che faccio la corsa faccio quello che mi fa quando mi stufo vado a vedere il finale per dire Skyrim non ho mai finito ah proprio direttamente Skyrim hai giocato in questa modalità di andiamo a vedere Skyrim c'è stato il momento perché questa era 360 Skyrim era PC ho scoperto le mod su PC di Skyrim è stata la fine di Skyrim sono impazzito per l'idea di moddare un gioco era diventata una roba che era 100 volte più bella anche perché su Skyrim il filmato iniziale io ricordo solo la delusione tizio sul carretto io stavo così ma seriamente questo è il gioco questo non ce la posso fare dopo era diventato proprio figo figo infatti quando arrivavano gli amici a casa mettevo Skyrim con il 3d vision che per me è stata una roba bellissima super sottovalutata era proprio bello il 3d vision e veniva una roba che era proprio bello da vedere mi ricordo delle robe dei nani super fantastiche sottofondo come in dominazione però quella roba era ci passo le ore al giorno a mettere la mod poi questa cosa mi andava bene ne metto una più bella e finirà così allora Vito cambio titolo perché finalmente adesso si può dire alle 16 scaduto è l'embargo di Dragon's Dogma 2 delle recensioni addirittura quindi adesso andiamo a andare anche uno sguardo a che cosa è successo alle recensioni di Dragon's Dogma 2 e poi Fabrizio Balconi lo ringraziamo perché ha sottoscritto anzi ha rinnovato il suo abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 44 mesi carai Fabrizio Balconi grazie un abbraccio digitale e anch'io ho giocato a Dragon's Dogma 2 non l'ho finito stavo giocando anche a Rise of Drone di quello si poteva dire che ci stavo giocando in Dragon's Dogma 2 non si poteva dire vogliamo sapere quali giochi hai fatto nottata Ron Robin forse avevo già anche Dragon's Dogma 2 e però non potevo dire Dragon's Dogma 2 voglio sapere qual è quello che ti ha portato a giocare fino a tardi no tutte e due in questi giorni tutte e due tanto li ho alternati sono purtroppo non avrei voluto farlo per ciascuno dei due vorrei mi affascina di più Dragon's Dogma 2 c'ha delle c'ha tante robe che mi piacciono di più invece Rise of Droneen e complessivamente secondo me Dragon's Dogma 2 è una roba proprio più bella quindi c'ha tanto ormai c'è l'embargo di Rise of Droneen abbiamo fatto l'anteprima sulla base dell'anteprima e quello che si può dire adesso di Dragon's Dogma 2 un po' già si può iniziare questa cosa visto che escono contemporaneamente dopo domani e magari per qualcuno può essere interessante però chiaramente sono affermazioni molto sommarie poi si scende nel dettaglio di a chi può piacere questo a chi può piacere quell'altro ma per tutti e due farei la notte per tutti e due farei la notte a giocare tranquillamente adesso ce ne parli si la recensione di preggio è leggermente più breve della bibbia ho riso perché sono andato a vedere il vuoto ho dovuto scorrere per 20 minuti in fondo ed è assoluto allora andiamo a vedere se Metacritic no parla ce ne è a Valone si 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 parliamo prima a Valone parliamo che hai delle domande precise vuoi sapere la sensazione generale quante ore ci hai giocato Valone ci ho giocato 13 ore ah ok 13 ore ho giocato mi è arrivato prima Rise of Droning e poi questo Rise of Droning sto a 33 e questo 13 allora sapevo una cosa che voglio sapere subito guarda domande perché sono un giornalista serio io si sapevo che l'inizio è un po' non confuso ma schiazzante arrivi nella parte grossa ed è allora l'hai sofferta tu che la soffri tanto l'hai sofferta o no si 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 il gioco è un po' ci giocano non è un gioco semplice da approcciare secondo me non lo era il primo e e questo che viene che tu hai giocato eh il primo l'ho solo giocato non l'ho non sono andato avanti non l'ho finito ho giocato più o meno come adesso ho giocato questo però questo continuerò a giocarlo PS5 così rispondiamo anche alle domande della chat si ci sto giocando su PS5 eh c'è la questione dei 30 fps tra un po' parliamo pure di quella ma parliamo prima della questione la complessità è un gioco estremamente ma non è non è neanche tanto complesso non è diciamo super amichevole nell'interfaccia secondo me fa delle robe particolari che altri giochi non fanno quindi ha bisogno effettivamente di cioè non può risolvere la roba con vabbè hai i tasti classici di come che ti aspetteresti da un gioco d'azione in terza persona no non la può risolvere così per il tipo di cose che vuole fare e ci sta questa cosa cioè tipo per esempio che ne so pensa a un Monster Hunter sempre di Capcom che è tu vedi visuale in terza persona però vuole fare delle robe precise e quindi non è che ti che ti può far giocare come se stessi giocando a una qualunque altra cosa perché tu anche God of War Horizon Ghost of Tsushima sono tutti diversi tra di loro però bene o male non hai difficoltà a passare non devi reinventare la ruota esattamente esattamente Monster Hunter World infatti è più difficile da approcciare quasi una rottura di coglioni quasi una rottura di coglioni e anche qui puoi avere lo stesso problema qui ciò puoi avere lo stesso problema però hai superato già in 13 ore questo passaggio no 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 non l'ho superato cioè riesci a differenza di Monster Hunter dove magari tu proprio potresti non capire come iniziare una missione cioè Monster Hunter c'è questo tipo di problema l'interfaccia esatto qua bene o male una missione la porti anche a termine ma fatichi per con quell'amaro in bocca da dire non c'ho ancora non ho ancora padronanza non ho ancora ben capito di preciso come farla oppure o quello oppure dici vabbè però così proprio deve essere cioè quindi ogni volta devo faticare per fare sta roba ma tu parli di missioni perché io non conosco il gioco è strutturato a missioni cioè le robe le fai facendo le missioni ma come immagina un The Witcher o appunto di Ah ok cioè arrivi da un tizio parliamo di un tizio di una missione non da una istanza tipo Monster Hunter World no 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 missioni quest quest missioni in questo senso non missioni livelli di gioco sì sì missioni missioni si chiamano proprio missioni nel gioco in italiano però è quella roba là cioè tipo scegli quella che vuoi seguire e di quella che hai scelto di voler seguire ci sono gli indicatori sulla mappa anche che ti dicono più o meno precisi a seconda di quanto precisa vuole essere la missione cioè se è tipo non si trova sto tizio si è perso più o meno in questa zona ovviamente non è che c'hai il punto preciso su dove andare ma c'hai c'è neanche il cerchio quindi quello è abbastanza classico no no vabbè quella parte di capire quello vabbè però il punto è che invece non lo so in certe situazioni c'è ne ho trovate diverse di situazioni dove tipo pure il funzionamento dei teletrasporti cioè sono robe che vengono snocciolate un pizzico per volta piano piano probabilmente anche proprio il fatto di giocarlo con Rise of the Ronin invece è come abbiamo già detto un gioco di ruolo tipo un scusa un open world alla Ubisoft quasi con i segnalini sulla mappa con le cose ci sono i punti dove ti teletrasporti sono facili all'inizio lo capisci li sblocchi fai quella roba velocemente e ti concentri sul sistema di combattimento eccetera qua è invece tutto un po' più da scoprire proprio anche da capire e per me anche il sistema di combattimento io ho scelto un mago come faccio spessissimo nei giochi di ruolo c'ha un sistema di lancio degli incantesimi che era così anche già nel primo bello legnosetto e non ti dà quella sensazione di potenziale anche divertimento faccio delle mosse fighe delle robe ma tu hai questa sensazione anche in ottica futura difficilmente il suo sistema riuscirà a divertirmi o è perché ancora non riesce a padroneggiarlo difficilmente diventa più snello più agile però una volta padroneggiato secondo me pensi che riesce a gestirlo meglio non lo so potrebbe anche essere una roba che cioè magari il gioco complessivamente mi piace tanto perché comunque già adesso ci sono delle belle soddisfazioni nella questione della scoperta per esempio nella questione di impari proprio il mondo come funziona man mano che vai avanti di esperienze anche un po' casuali fighe poi c'è tutto l'aspetto delle pedine quello mi piace un sacco per esempio quello è molto affascinante le pedine sono gli altri giocatori che possono lasciarti l'aiuto diciamo no sono proprio sì è anche questo ma sono gli npc che ti porti dietro ah ok cioè tu vai in giro fondamentalmente sempre con un party di quattro personaggi il tuo la tua pedina principale che crei tu a inizio gioco e te la porti dietro nel corso dell'avventura e e le pedine che puoi incontrare nel gioco e ingaggiare o puoi prendere quelle degli amici per esempio ah e loro ti accompagnano non stanno lì tipo souls cioè ti accompagnano proprio nel viaggio ti accompagnano sono mosse dall'intelligenza artificiale ti parlano continuamente dicono cose ci hanno e addirittura questo è bellissimo per me ti guidano nelle missioni cioè la pedina può essere a conoscenza di dove si deve anche che tipo di strada fare per arrivare nel posto dove si deve andare a fare la missione e questa conoscenza tra l'altro da cosa è data dal fatto che loro perché queste pedine sono i personaggi principali degli altri giocatori se tu prendi quelli degli altri se le prendi online hanno fatto la missione hanno fatto quella missione quindi lo sanno e quindi a te te lo dicono ma dicendolo proprio è proprio così in un altro mondo ho conosciuto questa cosa quindi so dove dobbiamo andare tipo ti ci porto io questo è wow questa è tra l'altro è una soluzione anche elegante al tipo di di problema che ho spesso io no? quando non si sa bene cosa dove andare questo è proprio elegante perché non è tipo che vabbè sei andato a vedere una guida fuori no no questo personaggio effettivamente nel multiverso come funziona qua queste cose le sa già e mi guida un po' me le dice allora prima di arrivare ai 30 fps voglio l'aspetto grafico visivo bello molto bello molto bello perché ho visto adesso il video là con il grifone era veramente no no è proprio bello cioè graficamente è bello anche a livello proprio di come come stile sai che sembra sembra un po' appunto di elder scrolls perché ci hanno diciamo facce un pizzico quella serietà un po' spigolosa lì ma molto più bello cioè molto più stiloso messaggio di alfiere nero l'ho fatto molto rite però che cosa si può filtrare evitare la petina di valore per non perdersi prendo la petina di valore dove cazzo devo andare non lo so e nell'altro multiverso l'ho fatto ma non me lo ricordo porca guarda l'ho fatto cinque minuti fa porca se l'avessi fatto comunque ragazzi scusate non stavo guardando la chat scrivete anche voi domande shepard per esempio chiede sono missioni generate proceduralmente no no assolutamente tutte robe scritte queste allora bella storia bella lo diremo più avanti storia bella lo diremo più avanti oppure vediamo cosa ne pensano quelli che l'hanno finito mi piace grafica bello grafica bello proprio bello 30 fps 30 fps pessimo pessimo le patiti proprio patiti totale purtroppo questa coincidenza sfortunata di giocare insieme a un gioco che invece va a 60 ma come mi auguro che qualunque altra cosa purtroppo la soffro proprio un sacco la roba dei dei 30 fps è proprio soprattutto quando stai giocando insieme a un altro gioco magari se giocassi solo a dragon's dogma 2 non cambio mai sto immerso in quello vabbè non domanda si poi c'hai due possibilità nel mondo si grafica brutta di rise of the ronin a 60 o grafica bella di rise of the ronin tutta la vita che poi non è brutto cioè non è così brutta da dire capito cioè non è tipo che ne so un'altra roba una cosa che proprio non mi piace a me viene bene rise of the ronin anche bello poi di questo però di rise of the ronin si può parlare domani ma anche solo della roba vista in anteprima i confronti che facciamo oggi disclaimer si è quello che ho visto io di rise of the ronin no 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 sono comunque da parte mia che li sto giocando sono su anteprima di rise of the ronin io ho un mondo con la grafica di rise of the ronin e non gioco più cioè non è proprio una roba no va che magari ci sono degli scoppi ah beh certo per quel poco che ho visto per dire banish non è eccezionale però non mi è sembrata brutta quindi magari è allora un esempio pratico chiede Ivanir di difficoltà nel lancio di incantesimi a livello di gameplay assolutamente allora se hai giocato il primo Ivanir ti dico è scomodo come nel primo se non hai giocato il primo ti spiego che cosa si fa per fare l'incantesimo allora tu praticamente con il personaggio assegni gli incantesimi a una all'interno pensa un po' spiderman 2 le mosse speciali che tieni premuto uno dei tasti dorsali e premi uno dei quattro tasti per farle era così no in spiderman 2 ed è il concetto di base è lo stesso tieni premuto un tasto dorsale e premi quadrato triangolo cerchio croce per lanciare il relativo incantesimo che quando poi premi il tasto dorsale e lo tieni premuto ti compare sull'interfaccia la cosa vito hai presente questo fatto proprio però che succede che tu tieni allora quindi premi r1 premi quadrato per lanciare l'incantesimo fiammata per esempio e parte proprio il caricamento di sta palla di fuoco che faccio quando è pronta l'animazione ripremo quadrato e parte sta fiammata che è un po' quella di skyrim non è la palla di fuoco che la lancio e basta sto facendo l'esempio di questo tipo di incantesimo poi ce ne sono diversi la fiammata è tipo che sto fermo e parte la fiammata alle mani per 4-5 secondi io cerco di di tenerla mirata bene sul sul nemico c'è una roba che tipo un po' contro come se fosse personaggio di resident evil che deve fare dei primi resident evil che deve fare gli incantesimi voluto un po' imbalsamato molto imbalsamato però magari da biglio diventa più appagante cioè riesce a fare ti sembra molto più una roba realistica di uno che schiaccia un bottone e fa la magia è sicuramente una roba più realistica però meno divertente sul primo impatto però scusami non risolvi allora si può cambiare classe nel gioco ma anche con lo stesso guerriero mi sono preso il distruttore che è un diciamo una specie di berserker un guerriero c'è anche il guerriero distruttore più un guerriero proprio di riempio di mazzate e ho detto vabbè così faccio una roba magari che è completamente anche lì bello comunque legnoso alla Monster Hunter invece che quello è un po' alla Monster Hunter se vogliamo sì quello è un po' la loro idea è di non fare l'action super immediato però in cambio non lo so se è in cambio perché io spero sempre che si riesca a fare sia l'action immediato non deve essere per forza banale però sia quello che fa Dragon's Dog come che tu ti puoi appendere agli arti dei nemici grossi e gli salti addosso lo colpisci con la spada mentre gli stai addosso cioè queste robe qua sicuramente sono bellissime o anche che ne so che prendi il barile esplosivo lo butti verso una una roba di rocce fai cadere rompi quella che è una diga naturale fai scorrere l'acqua cioè queste robe qua sicuramente sono belle sono affascinanti io personalmente non le baratto con un sistema di controllo più immediato più gradevole e alfiere nero dice nel primo volevo fare la seconda run con il mago ma non mi sono trovato e ho finito per cancellarlo troppo meglio il cacciatore le magie le lasciavo alle pedine il problema era che spesso non facevano quello di cui aveva avuto bisogno tipo magia fuoco alle frecce e ancora così o le pedine si sono ottimizzate si possono ottimizzare nei comportamenti no hai delle indicazioni di massima che puoi dare però bene o male poi dopo fanno loro però devo dire che sono molto attive le pedine non stanno cioè è come giocare con delle persone che fa che mediamente fanno delle delle scelte ok è tipo così ma poi belle presenti subito infatti io ho anche il mago tra le pedine soprattutto adesso che sono passato a e questo comunque cura ti mette l'incantesimo di fuoco sull'arma per farti avere il fuoco mentre giochi mentre combatti quindi diciamo ci sta anche ci sta sta cosa sicuramente è un gioco che vuole essere molto più simulativo nel combattimento e nel gameplay in generale rispetto agli action classici dice Ivan il sì sì simulativo impegnativo impegnativo come l'hai descritto tu è proprio scelta non è una roba che gli è venuta male a me sembra proprio no 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 ebbè poi a Capcom che ci vuole fare no devil may cry cioè metti hanno voluto fare una roba in cui hai poi quando l'hai padroneggiato quello a pagamento l'hai dito ok su fare bene una roba che non è proprio schiaccia un bottone questo questo sono curioso di vedere se più avanti però è anche rischioso secondo me per molti che tu una roba del genere la abbandoni ho sentito Sabaku dire riflettere esattamente su questa cosa lui era estasiato dal gioco mi sembrava così poi non ho approfondito la sua parlava di un'anteprima però di una prova in anteprima e dice mentre era diciamo c'è un sacco di roba da dire un sacco di cose da fare diceva pure io sono curioso di vedere la percentuale di persone che completeranno questo gioco perché secondo me sarà bassissima e per questo tipo di motivi secondo me lui lo dice non è una questione di difficoltà o di roba è proprio che tipo cioè combattimenti anche con i mostri grossi io con un grifone ma ci ho combattuto tipo sarà stata una roba tipo 20 25 minuti perché comunque è piano ti metti là c'è una roba strana tra l'altro ero ancora col mago quando ho combattuto col grifone che non c'è mana gli incantesimi puoi andare avanti all'infinito perché il tempo per farlo è la parte esattamente esattamente hanno due domande shepard chiede se le classi si possono solo cambiare hai già detto di sì l'hai fatto questo personaggio può cambiare classi in continuazione ovviamente non è non gratis c'è una valuta che sono i punti classe che tu accumuli insieme all'esperienza uccidendo nemici e completando missioni ottieni punti esperienza che ti permettono di salire di livello sbloccando automaticamente dei miglioramenti a forza salute eccetera e poi punti classe che invece ti servono o per acquisire abilità per una classe specifica o per cambiare classe ti chiedevano della difficoltà se ci sono perché magari l'abbasso risolvo un po' di problemi me lo trovo un po' più no non ci sono livelli di default ma il problema non è la difficoltà cioè non è difficile quello che no però magari lo scontro da 25 minuti dura 15 ah no non c'è comunque no non c'è una una roba di difficoltà le boss fight molto lunghe dice Dante Horror Show non sono frequenti per esempio nei GRPG ricordo il boss finale di Final Fantasy 13 mi mise ansia o 12 12 mi mise ansia perché ci stavo mettendo talmente tanto che se avessi perso non avrei mai voluto riprovare qua non è neanche tanto boss fight cioè tipo vai per strada e c'è il mostro più grande proprio più grosso di altro da vedere sta roba del grifone è un sacco meglio di quello che arriva in The Witcher 3 che c'era visto nelle immagini e poi era bruttino dal vivo eh sì oggi sì me l'aspettavo più brutto cioè a vedere sta roba mi è venuta voglia poi un po' mi hai spaventato allora questo ti piace esteticamente Vito eh questa roba a me è bello magari ci perdono non in questo momento poi su PC magari anche riesce a farlo girare anche a 60 fps ed è bellissimo immagino di sì però non adesso in futuro gliela do un'occhiata magari spendo un po' di meno è un gioco con i suoi tempi dice Ivan assolutamente un gioco con i suoi tempi fai poco danno si attacca in modo ragionato sì sì è è una roba non è una roba vado al massacro con la spada col pisco ma le pedine che incontri in qualche modo sono bloccate al tuo livello o c'è modo di avere delle pedine super fantastiche che rompono il box allora questo è un fatto interessante siccome tu puoi prendere le allora le pedine pure le paghi con un'altra valuta ancora quindi se vuoi le pedine di livello più alto le paghi di più quindi non è detto che tu riesca ma ma e qua non so se hanno se sta cosa l'hanno fatta con con una grande consapevolezza o no le pedine degli amici sono gratis ah e io ho preso pedine di altri recensori tipo che stavano facendo magari non stavano giocando anche a Rise of the Ronin e hanno finito già il gioco e io sono il mio personaggio è livello 19 forse 20 non mi ricordo come ho lasciato stanotte e c'ho la pedina di Alessandra Borgonovo a livello 50 però questa roba è il livello di difficoltà secondo me a scelta tua è un po' come le educazioni no però non so quanto incide ah oh c'è Gigor vedi Gigor ma ci stai giocando tra l'altro Vieni se ci stai giocando parliamo male di Final Fantasy no dicevo te la scegli tu quindi sei tu libero di scegliere se prendere la 50 40 30 e magari ti gestisci la difficoltà allora Gigor incide dice che incide iniziato vieni 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 se vuoi fare due chiacchiere vieni vieni entra 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 solito posto prendi uno degli ultimi link e password se è sempre la stessa roba vieni direttamente e ah quindi incide ok quindi io eh meno e allora senza sta roba sarebbe stata ancora peggio no però così secondo me ti risolvi un problema c'è una roba che lo rompe se scegli di romperlo ti aiuta e te lo tagliate lui scusa sto rispondendo a un messaggio hai capito cosa intendo cioè uso l'educazione fortissima non mi va non diventa facile dici no ma no no ma per me non è neanche una questione di facile non diventa comodo in ogni caso non diventa comodo ho capito che non c'entra niente però lo spugnone gli da tre corti quello 50 va più giù e tu devi farlo devi essere devi far meno volte quella roba che per te è scomoda ecco Gigor già ti sentiamo a livello audio Gigor Caraibi 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 aspetta che ti si sceglie io sono un uomo per il gusto di chiacchierare perché io sono davvero solo iniziato hai iniziato cosa? dove sei arrivato? dove sei arrivato? 92 ore per lui è l'inizio esatto io sento sono quelle 70 ore il tutorial meglio di un genitino quando ti puoi muovere diciamo più liberamente allora eccoci qua quando ti puoi muovere più liberamente hai preso le pedine della gente? tu dici che c'è una grossa differenza come il primo se prendi la pedina di livello 50 è molto più forte ok allora tra l'altro se ti prendi vabbè in generale io punto sempre ai maghi degli altri come nel primo esattamente prendi quello di Alessandra il mago a livello 50 e poi Alessandra è bravo sarà anche forte il mago si poi sa tutto dove si deve andare se trovi un giocatore che è veramente parsimonioso nelle quest nel trovarsi i tesori far livellare le cose cioè trovi una pedina così è fatta ad esempio io questo qua è un ricordo del di Dark Horizon ancora non non ho visto l'efficacia poteva succedermi prendere povedine potentissime ma stupidissime perché magari c'era il tizio che tirava come un treno per finire solo il gioco e basta avevi quella che magari faceva danni solo perché il livello era alto però non era assolutamente una pedina che in qualche modo ti aiutava al di fuori del combattimento anzi a volte magari era anche un po' inutile poi qui che hanno migliorato l'intelligenza artificiale delle pedine è ancora più efficace quindi sì quindi ok questa cosa qua vabbè questo tra la questa è una roba ottima secondo me cioè nel senso comunque il balance il bilanciamento del gioco impatta più tanto nel solo nei mostri di routine chiamiamoli così comunque nelle boss fight puoi avere anche quello grosso ma se devi salire in faccia al al ciclope ci devi comunque salire tu a meno che non c'hai quello che hai imparato a fare spiegaci che vuol dire devi salire in faccia al ciclope ed è difficile per attaccarlo per attaccarlo sull'occhio sì 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 lo devi arrampicare tutto il resto e che vuol dire come lo fai facciando le colossus eh sì praticamente esiste un tasto esiste un tasto adibito solo a aggrapparsi a cose se invece una cosa piccolina la prendi altrimenti invece ti aggrappi e quando ti aggrappi tu qualsiasi mostro di un'entità abbastanza importante tu lo puoi scavalcare e quindi puoi raggiungere varie parti del corpo e questo in genere è utile per attaccare i punti deboli a cui loro sono ne risentono particolarmente magari amputare delle e questo però è la difficoltà in cosa sta nel lui che sta in movimento devi colpire qual è la allora la pedina o può fare lui quell'azione no la pedina dal giocatore voglio sapere qual è la difficoltà tu lo devi scoprire se non lo sai altrimenti la pedina se lo sa te lo può suggerire guardate che il punto debole dovremmo colpire l'occhio del ciclope no ti riformulo la domanda ok una volta che lo sai qual è la difficoltà nel farlo nell'esecuzione stessa perché comunque non è che semplicemente ti arrampichi vai e lo fai comunque devi schivare i colpi ok devi schivare l'uomo per magari ad esempio non è mai cioè a volte lo trovi da solo a volte è circondato da altri mob piccoli devi prendere il ritmo e poi devi schivare devi comunque preoccuparti degli altri mostri prima intorno e poi dedicarti a lui non è mai super difficile almeno per quello che ho visto io no infatti anche secondo me non è non è tanto la difficoltà il problema proprio la non comodità sì che classe hai giocato tu Gigor io il ladro il ladro probabilmente è forse uno di quelli che meno soffre della roba della legnosità allora il ladro il ladro il fatto che abbia lui la schivata secondo me impatta tantissimo o meglio per un giocatore come me fa la differenza anche se è una schivata di che ha non ha proprio quel valore non è la schivata di Dark Souls non che con c'hai quel momento di invulnerabilità mentre schivi però è una schivata in qualche modo ti dà il senso di movimento in combattimento e sembra che stai facendo cose un po' più belle mentre gli altri classi magari devi stare lì fermo e a volte o ti pari oppure semplicemente prendi i colpi e basta e tu hai trovato queste legnosità anche con il ladro che dice Guallone allora il ladro è che essendo il fatto che usa due armi ed è veloce senti meno la pesantezza magari di un guerriero con la spada grossa e lo scudo che è lì impostato fermo il ladro lo percepisce più veloce per quanto poi la velocità del gioco è uguale per tutti i personaggi è soltanto l'illusione di avere qualcosa di un po' più veloce domanda figa di Calopsia suggerimenti delle vetine sono fatti bene o antipatici perché ti dicono le cose prima di permettere a te stesso di trovare la soluzione per me è magnifico quindi non faccio testo sentiamo Gigor tipo God of War perché God of War non ti fa neanche vedere il problema cazzo è fastidioso no ma è diverso anche un po' il concetto eh sì cioè a parte che cioè io ancora Enigmi esatto non c'è quella roba capito che God of War tu dici ma cosa devo toccare qua per andare avanti è la pedina è la pedina cioè diciamo gli NPC te lo dicono ricordiamoci che siamo in un gioco dove non hai input per dirti ah la risoluzione della quest è là quindi devi tu investigare per andare a capire come risolverla avere un tizio che ti dice guarda secondo tra l'altro non è che è proprio specifico andiamo alla coordinata x y e lo troviamo lì lui dice proviamo ad andare da quella parte e tu lo segui e comunque hai comunque questo senso di scoperta e avventura anche se hai qualcuno che ti indirizza ma non ti aiuta mai al 100 pagando anche pagando si può avere l'input con la strisciata che mi dice vai qua la mia vita purtroppo a meno che non sia una feature segreta ma non è proprio completamente privo di cose cioè bene o male sulla mappa gli indicatori un po' ce l'hai è fatto per farti studiare un po' tipo control che ti dice dove devi andare nella mappa però poi devi capire tu come trovarti la strada per esempio io ieri stavo andando in un posto e a un certo punto per strada incontro un ciclope appunto o un altro mostro grosso non mi ricordo cosa nel combattimento si rompe il ponte dove dovevo passare probabilmente fatto apposta questo fatto però no no si può rompere lo puoi rompere tu magari o la pedina qualcun altro l'ha rotto non so se ci hai fatto un combattimento sopra ma i ponti si rompono ok e allora è successa questa cosa poteva anche non rompersi questo non ho capito bene però la sensazione che mi ha dato è cavolo stavo combattendo col ciclope è finito per rompersi sto ponte dove dovevo passare e non sono più potuto passare su sto ponte ho dovuto trovare un'altra strada per arrivare in questo stesso posto e non mi ricordo neanche più se l'ho trovata ieri o poi mi sono messo a fare un'altra cosa però queste sono un po' le robe che succedono in questo gioco questo non è brutto però a me piace molto bello anche secondo me se la strada poi non è impossibile da capire dove è ma è insomma la roba ti guardi un po' intorno con la telecamera più due ci arrivi se è così stigas sicuramente rispetto a tanti altri giochi ti devi mettere un attimino un momento o guardarti la mappa o guardarti intorno per dire ok qua devo fare il giro è un open world dove magari ci metti cinque minuti da arrivare dal punto A dal punto B in Dragon Stock ma ci metti dieci minuti in quarto d'ora sì 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 ho anche di più io ancora non ho usato una volta il teletrasporto perché ho un è importantissimo li tieni poi per bravo perché comunque è tipo una roba che mi sembra super preziosa dico non è che lo faccio così c'è una pietra da consumare ogni volta e ho un solo telecristallo ho scoperto in 13 ore di gioco in un solo posto e negli altri casi puoi usare un carro per spostarti da una parte all'altra che è un po' tipo diciamo il taxi di di GTA solo che è fisso in il taxi di GTA perché puoi stare sia dentro a guardare mentre cammina oppure dormi e questo fa passare il tempo più velocemente durante il viaggio però questo parte a determinati orari quindi quello che puoi fare è metterti vicino alla fermata e c'è un'opzione per far passare il tempo fino a che non arriva l'orario di partenza del carro e cioè è una roba te lo devi sudare il tuo vivere in questo mondo non c'è la è molto poco di gioco è un gioco molto analogico molto poco digitale sì 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 ok ma infatti io comprendo perfettamente chi si approccia magari la prima cosa che vuole fare questa cosa l'abbandono non fa per me io continuo a sostenere che bisogna un attimo sbatterci la testa e entrare sono d'accordo una volta che sei entrato sicuramente ci sono cose che magari comunque continueranno a farti strorcere il naso però se ti prende ti prende proprio tanto ma durata è un altro gioco col gigantismo è una robaccia a me sembra immenso ma non lo so sì allora io non lo posso parlare io se provo a fare un confronto con ma tu lo sai Gico l'hai parlato con persone l'avranno scritto io ancora non ho visto voti stiamo parlando da più di 40 minuti io ho visto multiplayer lo so io non ho visto niente a long to beat non mi ha ancora il timer no però magari l'avranno scritto nelle recensioni le persone quanto tempo ci hanno messo a fare le cose e tra l'altro voglio vedere adesso metagritic 87 allora qua mi dice esplorare tutto e far scrivi su google how long to beat dragon's dogma 2 around 37 ore 37 ore se te lo vuoi finire come le persone che hanno una vita Gior ma scusa per me è sprecato ma vaffanculo tu ti giri di gira 90 ore allora la quarantina 50 facendo un po' in po' si dai a medio del 50 se fai un po' un po' si ci può starlo aligi comandini 8.5 aligi che ti dà 8.5 a dragon's dogma vuol dire che è un po' inciampato perché lui è abbastanza fan aveva anche grandi aspettative però bisogna capire quando è che succede 8.5 loro non hanno più gli intermezzi quindi era 8.5 o 9 non poteva essere 8 Gianluca Arena su Spazio Games 8.3 poi magari con calma adesso adesso abbiamo Vito e Gigor chiacchieriamo naturalmente con calma poi nelle prossime live magari ce li andiamo anche a vedere per bene le recensioni o Alessandra vediamo che secondo me le è piaciuto un sacco comunque 8.5 comunque 8.5 e su EveryEye non si carica la pagina ecco qua 8.5 sempre un sacco a me piace a me piace il pc Vito io lo sfrutto bene mi piace un sacco il pc The Games Machine 9 chi è? Danilo Della Frana mi fa vedere no chi è? sì Danilo Della Frana è sempre è sempre un po' più esaltato Danilo 9 grande Danilo scusate ma quanto vi aspettavaste che durasse aspettavate che durasse un gioco così è Lord 37 è una cosa per me 80 è un'altra cioè per me 40 ore è un gioco 80 secondo me 80 devi fai tante robe fai le cose 80 no secondo me se vai dritto con la trama durerà di meno 40 35 40 50 se ti fai un po' d'ex per me è accettabile non deve durare 8 ore però Game Source non c'è ancora la recensione sì che c'è 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 che è un pezzo di fango dove sta recensione perché non è un peggio però no ti dico perché è successo che sono andati due articoli online contemporaneamente purtroppo mea culpa quello di Destiny ha tolto Draco Stocma 2 no e quindi adesso è morto è come la giornalisticamente è un errore che bisogna prenderti a batilate c'è ancora più nessuno la cosa è che non c'è nessuno che mi era che cazzo fai sistema subito questo impiccio stiamo qui a parlare con me invece di sistemare questa roba fra 5 minuti non frega più un cazzo a nessuno di Draco Stocma 2 Salvatore Cardone che salutiamo ha recensito Draco Stocma 2 su Game Source 8.9 che ricordo essere lo stesso voto di Final Fantasy 16 su questo stesso sito 8.9 che però l'abbiamo letta come non è 9 abbiamo detto anche qui secondo me è la stessa cosa loro vogliono dire questo quando fanno così vogliono dire tra l'altro Salvatore è stato giorni a dirmi no Igor io vorrei dargli 8.5 però ci sono queste cose che sono troppo belle poi là dice era quindi disperato distrutto tra questo 8.5 e 8.9 poi l'amore ha vinto perché l'amore vince sempre perché non era distrutto tra 8.5 e 8.6 esatto perché perché 8.7 pure 8.7 pure poteva essere una bella soluzione a questo punto no non gli diamo più il punto se ne diamo soltanto il punto 1 punto 5 punto 9 ho il voto pieno 1 5 9 pieno ma voi siete tutti pazzi il più e il meno il più e il meno ma siete fuori di testa ma che vuol dire 8.1 8.5 8.9 siete pazzi cazzo no tra l'altro cosa che ho voluto io lo imposta io infatti abbiamo visto come hai scelto l'articolo da mettere in home page cioè c'è un limite che va sistemato cazzo l'unico che vagamente sta migliorando questa industria è Vincenzo Lettera porca che ha provato a spiegare un po' di queste cazzate 8.1 8.9 8.5 ma vaffanella io non accetto niente che non sia non si mettono i voti io mi abbasso perché in questa se si mettono i voti allora a me piace andare nel dettaglio il più possibile se no non si mettono i voti mi disgustate se il miglioramento è non mettere i voti non metterne di meno no a me i voti piacciono vuoi leggere eh perciò a me invece se piacciono i voti non accetto il discorso che è meglio che i voti che migliora l'industria se fai meno dettaglio no non l'accetto dovresti seguire un po' più di Iovara che ormai dovresti aver capito che è la saggezza fatta per solo ascolta un attimo mentre mi so abbassato per entrare nella gamma vuoi leggere robe di Dragon's Dogma 2 o posso usare Gigor per i cazzi miei personali no però sempre da parliamo comunque continuiamo a parlare di Dragon's Dogma 2 no la domanda era se volete ah no 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 ancora non fatti personali no no usiamo il Gigor per parlare di Dragon's Dogma 2 ok va bene un po' debito io la lascio ma non ho nessun diritto di scelta no è cambiato il titolo Vito è finito il diritto ah ok è finito alle sedi adesso sono a caso va bene però scusa ci avete giocato pochi tutti e due tu hai scelto Rise of the Rony nettamente no no non ho scelto Rise of the Rony ne è arrivato prima è arrivato prima Rise of the Rony e quindi però tipo ieri avrei giocato 13 ore a Rise of the Rony no no ieri solo Dragon's Dogma 2 l'altro ieri ieri mi hai scritto un messaggio alle 6 di mattina e io sei sveglio alle 6 di mattina dico wow invece no era sono andato sono andando a dormire alle 6 di mattina ma questo è qualche giorno fa due giorni fa vabbè comunque era Dragon's Dogma 2 ultimamente più Dragon's Dogma 2 sì sì vabbè Gigor è bello o non è bello se lo chiedi per me per adesso è bello è bello 8.1 8.5 8.5 22 8.9 per adesso no adesso dai voglio confermarlo ma però io veramente ancora non ho visto niente dai ho visto questo qui l'ora che avevo fatto le zone a Milano qualche mese fa adesso è troppo troppo presto il mio 8.9 farrebbe 0 quindi ci credi un botto quant'è l'ora la fantasy al 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 revert io gli ho dato 9 pieno però ero talmente incazzato che avrei potuto dargli 8 l'ho scritto nella recensione per me questo gioco sarebbe da 8 se dassi il peso che io do a quel finale di merda però non puoi dare meno di 9 ma no neanche trama il finale basta il capitolo finale le ultime due ore di gioco vabbè non ti faccio altre domande se no mi spoileri tutto no e poi non posso chiederti degli altri giochi voglio parlare di Dragon's Dogma in rapporto a Dragon's Dogma sì era una postilla in cui poteva questo è il regolamento cioè tipo è meglio di questo tipo se vuoi sapere qualcosa di un gioco devi dire ma quindi ti sta piacendo più Dragon's Dogma o ti piaceva più questo gioco qua no no però aspetta ci sono delle domande in chat invece vai tornando al frame rate dice Alex Calops è molto molto ballerino ed invivibile non è allora per me il problema di base è già il fatto che è a 30 fps e non c'è una modalità per provarci a farlo girare a 60 è il secondo gioco importante dopo Starfield che ci ha sto fatto e questo io l'associo alla questione che senso hanno non riusciamo a spiegarci come mai le console di mid-gen minchia cioè cominciano a uscire i giochi che non vanno più a 60 fps ecco le console mid-gen a che cosa servono a giocare a Dragon's Dogma 2 a 60 fps però su console quindi quando c'è questo di sicuro io giocandolo insieme a Rise of Drone in a volte passando dall'uno all'altro e Rise of Drone in va a 60 l'ho sofferta particolarmente la roba dei 30 Jigor tu come la tu stai giocando su PlayStation sì è come è lo stesso a me dispiace un sacco giocarlo così solo che in 60 me lo sarei goduto molto di più però per me continua ad essere comunque un giorno tutto sommato non essendo non avendo quei tecnicismi degli action super frenetici super veloci comunque si fa giocare a 30 non è una roba che le gobi disgustose non si può qua è possibile giocare a quella cioè non è Final Fantasy 7 Rebirth che a 30 per me è ingiocabile ma ci va a 60 perché mi hanno detto che la modalità performance ci va a 60 però però è brutto graficamente giocarla a 30 in modalità grafica cioè per me quella roba no bello sicuramente lo vedi ma c'è proprio io lo so perché mi hanno detto che i 60 non sono reali in performance in Final Fantasy 7 no dice che le texture non sono fighe per niente in alcuni momenti è super ballerino ma tu non stai provando scusa non stai no no io ho messo grafica ah sì l'avevi detto prima sì ho messo grafica sì sì anzi stiamo parlando proprio di questo io lo gioco a 30 sono di bocca buona se tu se giochi 30 a Rebirth allora cioè questo per te va benissimo questo lo giocherei a 60 su PC io non gioco vabbè se lo giochi su PC allora i giochi console sono disposti a giocare lì a 30 perché sono macchine inferiori ma su PC col cazzo su PC ho il contatore degli FPS sempre in alto a 59 è all'arberosso anche se non mi stai con il cazzo ma è così Vito ti vogliono accollare anche il microfono di Gigor quando devi dare 3 milioni a volone spendi anche 100 euro per un microfono per Gigor che parla attraverso il citofono già sono sotto processo io con la roba dei microfoni questa è una community fantastica ma super esigente sui microfoni fa due palle non avete proprio idea io tra l'altro questi problemi quando mi ascolto non li sento ho pensato tutte le opzioni che mi hanno detto ma non ho risolto il problema Dragon's Dolby 2 arriverà su GeForce Now era nel leak di Nvidia ma informazioni ufficiali niente cioè quando è che si sa normalmente quando un gioco esce su o no su GeForce Now li annunciano ma anche se mancano due giorni al day one però ogni tanto loro dicono abbiamo aggiunto questi giochi non è una roba di day one arriva così l'annuncio e lo sa pure anche dopo abbiamo e si a volte arriva dopo e a volte te lo dicono mesi prima questo arriverà sicuramente con questa sicurezza mi pare di sì mi pare di solito l'annuncio avviene di giovedì dice tu 1981 ok quindi domani è ancora un giorno prima dell'uscita si potrebbe anche già sapere beh in ogni caso cosa ti cambia per capire se te lo vuoi comprare o no ah beh certo se devi decidere l'acquisto a parte no devi comunque comprare però lui dice io a 30 non me lo gioco perché mi fa schifo su console non lo prendo certo e non ho il pc per giocarlo a 60 va comunque già bene così sa già cosa fare non comprarlo finché ah non comprare lui vuole sapere quello cioè se si sapeva magari se lo comprava subito che però quando esce su geforce now te lo compri è già deciso magari c'ha voglia adesso vi ha ascoltato voi è venuto a super voglia magari super voglia dice ma me lo piglio lo stesso e me lo gioco anche se non esce su geforce now allora secondo me io comunque alla fine ci gioco eh cioè pur soffrendo sta cosa allora vi rispondo su dragon's dogma 2 però lo sta giocando teocrazia sto vedendo adesso lui gioca solo geforce now al 70 io lo chiedo sì però giornalismo d'inchiesta sì giornalismo d'inchiesta chiediglio stai giocando ma se ci sta giocando adesso ci sta giocando prima del day one quindi sta facendo la recensione tipo perché il gioco è scelta lui c'ha l'account grazie ancora nel giro no ah ok lavora le poste lo stai giocando con tra l'altro geforce dimmi dimmi no no niente magari non lo voleva far sapere no è live è live non si può tra l'altro tra le altre cose domani è live su twitch a giocarlo domani scade l'embargo per lo streaming anche noi faremmo vedere il gioco adesso qua mentre ci gioco lo sta giocando live ok magari la qualcuno ha rotto il day one non c'è la sua bella copia io stream ah no certo a quel punto arrestare beh in realtà twitch no non è così cioè twitch devi controllare le date d'embargo è tua responsabilità verificare che il gioco sia uscito se te ti arrivi al gioco una settimana prima e lo streaming per twitch sei responsabile e beh ci sta se te lo mette nel contratto ci sta tranquillamente la cosa però tu dici che ne posso sapere e beh non lo fare se sai che non è il day one tipo potrebbe essere una soluzione devi controllarti qual è il day one del gioco si 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 me ne ero preoccupato perché durante il covid mi sono arrivati un paio di giochi in anticipo anche Aligi lo sta facendo vedere dice John 5.1.8 eh però a teo secondo me lo sta giocando che il cazzo gli rifrega a teo di farlo vedere magari farlo vedere c'è una roba però vabbè magari lasciamo stare perché ovviamente non è che voglio mettere in difficoltà altri no vogliamo facciamola restare no io vi posso dire che tipo qua non non l'ho lanciato e non l'ho fatto giocare perché ho delle indicazioni quindi vabbè vediamo ma oh se sta su GeForce Now se non si è live ha detto Vito Iuara non rompe i coglioni ok ma Aligi sta facendo vedere il B-roll il giocatore eh no quella è un'altra cosa sì sì quella è un'altra cosa come abbiamo messo pure noi i video ok quindi vedi non si può giocare oggi si gioca da domani vabbè e comunque no che stavamo dicendo prima di perché che voleva ah per il fatto di GeForce Now se escono su GeForce Now eccetera no invece sarebbe interessante però ha messo la categoria Dragon's Dogma 2 attenzione ah ok è un po' un inganno un po' un inganno eh vorrei capire come gira su PC da tipo vediamo un po' chi è che la nelle recensioni eh Aligi mi sa che l'ha giocato su PC ha parlato su PC ne ha parlato che c'ha qualche è pesante ecco pesa molto su PC più anche su PC noi abbiamo avuto dei problemi con la nostra versione PC quindi ci siamo abbiamo evitato di menzionarla perché era un problema proprio nostro nostro non era un problema della versione PC infatti ci siamo poi fatti dare un codice PS5 perché era diventato ingiocabile ecco allora Aligi dice leggo dalla sua recensione di multiplayer approccia il genere in modo molto particolare ed è voluto quindi risulta più pesante sulle CPU che sulle GPU questa cosa su console si è tradotta in un frame rate affaticato che noi per fortuna non abbiamo sofferto dato che avevamo a disposizione la versione PC quindi insomma diciamo rassicurante il fatto che su PC riesci in ogni caso a giocarci in modo fluido e su questo ci sono notizie sia notizie ottime che non piacevolissime da una parte quindi continuando sulla questione PC sulla nostra configurazione medio alta il gioco viaggiava a 60 fps granitici nella mappa e durante i combattimenti non abbiamo mai avuto cali nonostante il titolo non sia chiaramente dei meglio ottimizzati e sia consigliabile fare qualche sacrificio nelle opzioni grafiche per non pesare troppo su hardware non molto performanti questa stabilità però per qualche strano motivo non vale per la capitale del regno degli umani Wernwurt tra le sue vie abbiamo visto strani freeze e un po' di staggering plausibilmente motivato dal numero di personaggi presenti e dai dati che il gioco deve gestire in contemporanea eppure la situazione è stranissima dato che nella capitale del regno di Battle che ben poco ha da invidiare a Wernwurt per folle e complessità questi problemi non si manifestano chissà se il team risolverà con qualche aggiornamento graficamente Dragon Storm 2 pur non raggiungendo chissà quali picchi a tratti davvero notevole l'art direction molto realistica di Daigo Ikeno dipinge un mondo medievaleggiante molto più credibile rispetto ai mondi alieni di altri giochi e il fatto che pressoché ogni personaggio sia stato creato con l'editor di gioco capace di modificare non solo i volti ma anche le dimensioni corporee dona al tutto una ricchezza non indifferente l'unica parte su cui posso commentare è l'ultima e sono d'accordo che anche secondo me è proprio per me è proprio notevole esteticamente molto bello sulla questione che pure su PC c'ha dei problemi immagino sia una roba risolvibile la cosa che ha descritto lui che in una sola città non è ottimizzata quella parte sì sì lì secondo me sarà sistemata tranquillamente quella cosa però invece il fatto che capisco pure che sia un gioco che pesa più sulla CPU che sulla GPU lo vedi dalle cose che ti permette di fare dall'imprevedibilità di quello che succede quindi c'hai varie cose da tenere in considerazione contemporaneamente quindi me l'aspetto come anche Starfield è stato detto è un gioco CPU centrico pure quello e infatti vanno a 30 fps sulle console ed è brutta sta cosa brutta console mid-gen subito 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 Dragon's Dogma 2 liscio fluido anche se pesando tanto sulla CPU non è detto che le console mid-gen se veramente come dicevo io Valone console mid-gen la Pro Pro serve non la Pro oppure rivedere come intendono la Pro cioè la devi fare anche forte anche sulla CPU non solo con la GPU più potente la devi fare tutta più potente e ci vuole PS6 dice Shepard 91 per me sì per me prima PS6 e poi PS5 Pro grande innovazione nel mercato esatto e infatti sarebbe fantastico sarebbe fantastico va bene allora vabbè dai comunque torneremo a chiacchierare di Dragon's Dogma 2 no volevo dare a Vito il giusto spazio se vuole per chiedere a Ejigor qualsiasi cosa tanto un'oretta di Dragon's Dogma 2 l'abbiamo fatta anzi adesso vabbè senza neanche cambiare il titolo partendo da Dragon's Dogma 2 che volevi chiedere no volevo parlare di Persona 3 ah di Persona 3 ok la sera Milo Milo tutto Mili Persona 3 sì ti sei messo a fare gli incroci studiati parla con quello con quello con quello vero sì sì no vabbè ma ci avevo il calendario il calendario perfetto lo dici come se fosse la roba più normale del mondo sì sì sei discusso a me sì dopo questa è la mia tra l'altro questa è la mia quarta run quinta se contiamo quella interrotta di Persona 3 Portable HD allora no una domanda seria sì poi andiamo sulle domande tecniche la domanda seria che tu avevi detto che questa versione faceva cagare perché mancava il DLC il fest del fest non ho mai detto che faceva cagare ho detto che comunque cioè oggettivamente è una mancanza importante oh però quando hanno annunciato adesso il DLC a parte tutti hanno detto che è una cagata quel DLC perché allora è così importante ma che è una cazza allora lo stesso ah ok un user del gioco ha detto ha fatto questa cosa che ho fotografato quel momento perché è stato bellissimo ha detto io non riesco a immaginare Persona 3 senza il DLC c'è anche scritto bello quei sottotitoli in inglese ha proprio dichiarato ha fatto questa cosa e che era la cosa che dicevamo noi fan di Persona 3 dall'inizio cioè io non riesco a immaginare Persona 3 senza quel finale là poi partiamo da un presupposto importante come era strutturato nell'originale l'espansione era un po' diciamo bruttarello sì nel senso che sentivi la pesantezza di questi dungeon tutti uguali tutti infiniti a rifare roba tra l'altro eri obbligato a giocarlo a livello difficile non c'era a livello normale era fissato su hard e quindi era una roba super pesante da portare a termine io quando dico che è importante quell'espansione lo dico a livello narrativo cioè per me narrativo è un elemento super importante che non può mancare quando racconti la storia di Persona 3 perché c'è il tassello più importante di tutta la storia e non a caso nell'originale si chiamava anche qui si chiamerà The Answers le risposte ci sono le risposte alle domande dopo te lo puoi giocare dopo il gioco è una roba che invece si 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 te lo puoi giocare dopo si si è una cosa a parte quindi me lo sugo dopo se sono super preso ma io mi prenderò il bad ending cioè per me non c'è neanche la possibilità di perdere il bad ending lo scegli tu non so fino a dove sei arrivato ad un certo punto ho iniziato tre ore ah boll comunque ad un certo punto in maniera abbastanza palese ti dice vuoi fare il finale brutto o il finale finale bello e tu scegli nel quattro ho scelto il brutto io me lo ricordo però aspetta ma il brutto ce ne sono due brutti il brutto dove ti allei col col cattivo o il brutto nel quattro nel quattro c'era proprio una che che stava a gamba all'aria cioè golden o quattro golden ah e nel quattro golden diceva che uno dei finali nuovi era quello dove ti allei col protagonista ed è un bad ending ma figo diciamo a me c'era proprio o questa vuoi salvare se vuoi oppure fa mori tutti ah ok si tu hai fatto il finale perché non sei andato a investigare chi c'era ho detto morite sono arrivato non ne posso voglio bene però ho dato ho capito ho capito qua è veramente abbastanza nel 5 è arrivato per sfighe in realtà non sono riuscito a ritornare indietro a far arrivare quello buono quindi ho capito che non è nel mio sport ok ok ma questo pure sono una sessantina d'ore si si tutte e lì non c'è neanche questione di dire mi faccio le secondate o fai quello o fai quello vabbè però sessanta ore dai meglio delle cento di persona 5 per il bad ending senza la parte del royale perché l'ho giocata all'inizio se fai il bad ending ti tagli due mesi di gioco quindi se vuoi finirlo prima sono per il gusto di finire però hanno fatto un grande lavoro dicevo prima dell'interfaccia delle robe graficamente sembra un gioco che poteva uscire adesso io non avrei detto è un gioco vecchio sembra un gioco di oggi sì 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 anche se secondo me ma questa è pura percezione personale si è persa un po' di atmosfera malinconica triste dark che si è persa un po' per la grafica brutta dici tu tipo Silent Hill ripulito sì bravo 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 però ti assicuro che invece se lo vedi la prima volta così quella roba di atmosfera così arriva subito ci credo ci credo ci credo infatti mi rendo conto che è una cosa molto mia ad aver giocato l'originale ad avere questa percezione qua mentre Final Fantasy sì sei d'accordo che l'inizio di questo è molto peggio dell'inizio dell'altro sì ma di brutto per me il capitolo 1 di Final Fantasy Remake è una delle cose più belle di sempre questo qua non direi ma non per colpa di questo però quindi no eh no perché Robert parte che ti deve raccontare un flashback quindi c'è di azione ce n'è pochina anche come lo racconta il flashback secondo me è brutto proprio sì secondo me perché a parto ti faccio il racconto come era nell'originale funziona è io che ti racconto ma faccio finta che sto parlando adesso c'è proprio una roba semi cinematografica che funziona proprio poco bene secondo me proprio pesante sì secondo me il primo capitolo insieme a un altro è uno dei capitoli che funziona meno sì sì le vere di Francesca dice io sono a 55 ore di persona 5 quanto mi manca se stai facendo il Royal nemmeno 100 ore metà sei a metà no di meno cazzo io ho fatto 95 ore e non il Royal è 55 ore e lui ha 100 5 130 140 ci arrivi con il Royal o con il Royal io ce l'ho messa 100 ma io comunque ho fatto il Royal con il progresso del 5 quindi l'ho fatto un po' più veloce no no io ho fatto il 5 e non sono uno che fa tutti gli extra fa il giusto 95 ore è il base più la parte nuova è dura non è che non è che sei sereno vivi felice infatti c'è arrivò stanco io ho tante ore però la persona 5 era proprio bello ma dispiaciuto infatti non volevo il bad ending là ho provato a riprendere i salvataggi a recuperare a cercare di fare robe diverse infatti qua hanno messo la meccanica del 3 del riavvolgi che è super utile bella bella con la roba là diciamola Gualone Gualone tu puoi ricaricare un salvataggio ma ogni volta che ricarichi tu puoi chiedergli anche di andare un po' più indietro quindi non ricaricare per forza in quel punto ma andare un po' più indietro del salvataggio ma è fighissima sta roba e poi il gioco è strutturato a giornate certo puoi decidere di caricare il salvataggio oppure tornare da quel punto alla sera prima la mattina prima fino a 2 o 3 giorni indietro 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 quindi recuperare un po' di roba che hai sbagliato e quindi puoi bello molto bello questo fatto c'è una domanda di mttbff che vi chiede se non avendo lui mai giocato un persona meglio partire con il 3 o con il 5 no io partirei con il 3 così si fa 3, 4 e 5 e 4 bisogna vedere se per me per apprezzarlo parti col 5 comunque c'è che è quello ma il 3 non lo conosco quindi risponde meglio Jiggle ma è più una questione veramente di ordine se ti fai il primo e il 3 e poi perché comunque il 5 secondo me è ancora il 3 è figlio del fatto che è un remake 1 a 1 dell'originale quindi si porta dietro alcune robe vecchie di level design tipo i dungeon tutti uguali e in più la mappa è molto limitata nel persona 5 è una varietà di luoghi e attività da fare che è il doppio di persona 3 quindi c'hai la parte di farming che è più bella da giocare c'hai i dungeon che sono un po' più fighi quando non è proprio l'evento secondo me ti spaventi meno ti fai l'idea di persona e poi ti godi il è però il 3 è il rischio la cosa buona per ultimo no io invece quando devo consigliare a qualcuno fatti la roba meno respingente poi ti innamori e vai a recuperare il resto però il 5 nel momento in cui tu ti vuoi avvicinare la persona perché già un minimo di interesse ce l'hai quindi se ti piace persona ti piace il 3 ti piace il 5 e quindi meglio fare un percorso da tra l'altro sono collegati dal fatto che il 3 è il mio preferito no infatti non ne faccio un giudizio del più bello ne faccio un giudizio sulla roba un po' più agevole se entri nuovo però qua hanno messo un sacco di roba eh sto vedendo esatto ti facilita il gioco in una maniera pazzesca ma molto più del 5 tipo e il Teurgia sono gli attacchi speciali che hanno messo di ogni personaggio sono strapotenti ma proprio potentissimi quali sono gli attacchi speciali? tu li devi ancora sbloccare ci vorrà un po' è un attacco speciale unico dove c'è una barra che si carica tipo la limit break di Final Fantasy la roba del genere quella roba delle carte invece c'era la mano dei tarocchi quella è un'altra cioè la mano speciale dei tarocchi che ogni volta che prendi queste mano speciali puoi aumentare del livello delle carte quella è una roba nuova che hanno aggiunto in più ci sono delle attività extra con i personaggi del party che se le fai ogni tre i personaggi acquisiscono delle passive fortissime e più c'è i livelli di difficoltà pure e in più c'è i livelli di difficoltà che vanno dal sereno all'incubo vatterà pesca va bene Gigor vai a sistemare la cazzata che hai fatto già fatto già fatto bravo no ma invece quello del Gigor che ne pensi del fatto che Vito sta giocando contemporaneamente Final Fantasy 7 Rebirth e Persona 3 Reload vabbè ma Vito non è nuovo nel giocare 17.000 giochi contemporaneamente io ogni volta che guardo i suoi giochi giocandoli diciamo ma come cazzo tanto bravo Gigor che guarda giochi giocandoli bravi perché non sai qual è Gigor è semplice Gigor non gioco quelli che giochi tu da 95 milioni di ore ma mo sono Persona 3 e Final Fantasy 7 però a me dureranno la metà di quelli che dureranno a lui ma anche fosse no che succede raramente comunque giochi comunque giochi comunque di una certa al netto degli indie comunque anche giochi di una certa entità magari non gli RPG da 50 ore ma giochi da 20 30 ore te li giocavi ne giocavi tipo 10 però Gigor il problema infatti è nato adesso che dormo e che tipo faccio anche altre cose nella vita tipo lo sport non c'è più tempo di fare un cazzo Gigor questa cosa è incredibile non dormire alla fine ti dà delle opzioni in più nella vita morendo però ce le hai oggi devo fare più scelte io ho scoperto che si dormire ma poco c'è quindi mi sveglio presto per giocare un pochino e vado a dormire un pochino più tardi per ma no io sono per dormire il giusto perché se non muori sul lungo io non parlo di tre ore a notte sei ore dopo una certa età sei ore sei ore è buono ho poi il consigliato da tutti i medici e i dentisti del mondo assolutamente secondo me salendo con l'età puoi dormire un po' di meno però ecco lo sport sono più stanco quindi ieri c'avevo una delle giornate pause senza da fare niente la sera e ho detto ma vaffanculo vado a dormire ma com'è invece questa cosa che salendo con l'età puoi dormire di meno io ho sempre più sonno no in teoria c'hai meno bisogno sì però tu cammini un sacco questa è una fatica poi se ti metti a dormire tipo gli orsi più dormi più c'hai sonno a me se capita al weekend che mi metto a dormire dormo 24 ore è difficile che mazzi con la pala sto rigiovanendo vedi come dice Alex Galop ti devi dare degli orari fissi stimenti il tuo corpo e non capisce più niente sbuffola vabbè va bene vabbè ragazzi che dite ci aggiorniamo tu vari argomenti robe altro chiacchiere io non li questi non li gioco quindi no li fa la fantasy dove possiamo aggiornarci in futuro sì io quando avrò finito poi voglio voglio sapere il finale voglio parlare del finale che è piaciuto tanto a Gigo esattamente che secondo me a me a Vito darà le stesse sensazioni a me piacerebbe un sacco parlare con la gente a cui gli è piaciuto voglio proprio capire allora aspetta che è probabile che è tanto magari con me e con Vito potrei parlare di persone che non noteranno differenze secondo me non ce ne accorgiamo proprio io ho fatto un casino all'inizio a capire che non però scusa scusa Vito tu come l'hai recepito il finale del remake non mi ha dato nessun fastidio niente zero però era tutto ok funzionava alla grande era proprio anche bellino anche a me bellino no bellino no perché diventava un po' non c'è dal stai provocando non c'è c'è il me è proprio già perso secondo me era anche parziale però scusa questo per me vuol dire che non l'hai percepito bene se ti ha già perso però perdonami se io mi metto a giudicare le trama di tutti i gene pigite devo dire che sono tutti da merda no voglio aspettare in questa roba di vedere tutto quello che c'hanno in mente perché era troppo parziale che si distaccasse dall'originale invece non si spiegava proprio niente no no ma io sto a me che poi nel terzo tutto torni diciamo tutto è perfetto ah ok io però in questo momento devo giudicare quello che ho non solo quello che vedo ma anche quello che gioco pad alla mano perché comunque quei finali parlo di sia di remake che me li hanno fatti giocare e io ho provato repulsione eh lo so però secondo me invece no la trama io la posso giudicare nel complesso cioè non ha senso giudicare l'host no ma io non voglio non mi interessa a me che del fatto che la trama no quella parte per te è stata terribile come te l'è stata raccontata ma veramente comunque dico il finale di remake per me è veramente carino cioè no beh era un po' prolisso se vuoi però scusa però spettacolare finale di fanalfante 16 mi devo impiccare infatti lo schifo non me lo ricordo proprio 100 ore durava con gente ma non mi ricordo proprio che nel cosmo della sbruzzola impalata delle stelle ma sai che non mi ricordo come va a finire con la fanalfante 16 ma c'è pure un grande colpo di scena qualora non è figo il problema è che si parla addosso parla di cosmo di robe sì sì come no alla fine è un po' adesso fuori onda va bene in linea con quello che è stato e quella è palla al cazzo quello di fanalfante serie me che non ricordo niente devo essere adesso giro però secondo me se non te lo ricordi è comunque un aspetto che denuncia il fatto che non è che sia proprio è possibile ma anche il fatto che ti faccio schifo quello del 16 e comunque te lo ricordi si vuole che in qualche modo sia riuscito ad entrarti nel cuore sia nel bene che nel male in qualche modo è vero che è una roba positiva però se uno mi ricordo che mi ha fatto schifo e uno mi ha lasciato più o meno indifferente ma io me lo ricordo carino a livello se non è il torto che puoi fare a qualcuno o a qualcosa e sarà sempre l'indifferenza l'odo in quanto meno è un sentimento che puoi esprimere e poi l'indifferenza è terribile no infatti infatti io ho cioè apprezzamento hai rimesso su sto trailer tu è rotta il canale non è quello questo è un trailer di un minuto ma che cazzo stai giocando è il trailer del gioco quello di prima era lo state of play e comunque dubito che abbia dentro delle robe clamorosamente spoilerose noi le tre facce è meglio no è più bello così per la gente che passa diciamo stanno parlando di questo ho capito è più bello esteticamente allora metti il finale ma non è il finale è il trailer ma l'hai visto l'hai già visto è troppo squaleroso questo trailer ma non è vero l'hai visto sicuro però scusa vedi ha detto che non ti interessa la trama ma poi non la capisci la trama non ti ricordi non la capisci è vero però adesso ci sto provando a me non è il problema la trama a me è il problema le ambientazioni che mi rompe il cazzo e mi fa vedere manco i personaggi e mi fa vedere se vedo i mondi mi scoccio ma l'avrai visto quando è uscito sto trailer ho detto di no perché hai comprato non avevi idea di come sarebbe stata la grafica di questo gioco niente non hai visto niente ma hai visto un'immagine è una cosa è quello prima mi sono fidato è quello prima come l'hai comprato hai visto i trailer probabilmente no non ne ha però io quelli di giugno me li scordo adesso lo sto giocando non lo scordo mannaggia a te mannaggia mannaggia acquista no look esatto andiamo a camminare andiamo a camminare andiamo a camminare bravo ho chiesto solo una cortesia ma vengo trattato sempre così non ha chiesto una cortesia né l'ha chiesta cortesemente questa cortesia ci può stare questa accusa me la presta ha chiesto una cortesia in modo sgarbato dice mettiti in BFF va bene noi gliela potevamo comunque concedere effettivamente ma siamo cattivi e perciò non lo facciamo noi vogliamo imporre il modo giusto invece di rimettermi il trailer di prima che già ho visto mi ha messo un altro apposta pensando che è meglio è certo è meno lo state of play dura 20 minuti questo è un trailer di un minuto e mezzo ci sarà meno roba che può dare un gameplay di Mike Shosha dai così lo vediamo un gameplay di Mike Shosha del finale di Final Fantasy 7 Rebels che era la cosa di cui stavamo parlando bene o male bene o male va bene puoi prendere un solo gioco per Switch tra Dredge e Dave the Diver quale scegliere chiede Zanafix78 chiudiamo con questa io? penso di sì perché secondo me Gigor pure non li ha giocati scelgo Dave the Diver perché è un po' più vario però poi ci aggiungi una questione sulla pezzenza ce la aggiungi ah gli devi comprare tutti e due eh sì dai così al volo al volo proprio così per sgarbo nei confronti di Zanafix perché questa splendida commione ti ha diritto di scegliere se non ha le possibilità di prendere solo quello e di quei abitanti sono assolutamente d'accordo anch'io e la domanda di Zanafix è totalmente legittima non so perché Taxi Life rispondo anche a Dubro faccio un po' però dobbiamo salutare sì sì Taxi Life sì o no Dubro se ami proprio quell'idea di fare il tassista sì però è proprio grezzo 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 non te lo straconsiglio io anche a me piace l'idea piace proprio anche giocarlo però è proprio se devi ascerti l'idea di guidare in questa città in cui fai sempre la stessa cosa probabilmente se vuoi provare non hai sperimentato buttati prima su un Euro Truck American Truck che sono più belli da goderseli per il viaggio va bene va bene grazie Vito grazie Gigor ringraziamo anche Serino no che andai dobbiamo spoilerare Final Fantasy XVI ah no 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 non me ne va cioè saluto per salutare la trasmissione io dirò una cosa magari sbaglio perché me la ricordo male e Gigor confermerà va bene io voglio sono curioso anch'io di sapere secondo me vorrebbero sapere tutti eh no no è troppo anche qua però no perché c'è Serino ha iniziato una live Serino lo vedo io ah su multiplayer ah è su multiplayer sta giocando a New Star GP va bene andiamo va bene ride multiplayer eh multiplayer it e così lo ringraziamo anche per il fatto di essere passato qui e ci vediamo domani e domani questo si può dire già parleremo invece di Rise of the Ronin scade domani scade anche l'embargo di Rise of the Ronin quindi Vito se vuoi tornare guarda anche se non è il Vito di Vito era show dirò la mia certo assolutamente non l'ho ancora finito ragazzi però posso già averne giocato abbastanza per parlarne ci vediamo domani per Rise of the Ronin ma non è finita qui la ghiacchiera su Dragon's Dogma 2 chiaramente io andrò avanti a giocarci ma poi voglio anche guardarmi un po' meglio le recensioni insieme quindi troveremo gli spazi si sono accavallate quando si accavallano le robe è così sai che io e te mi sa che non siamo amici sul PSN no questo è pessimo devi prenderti la mia pedina assolutamente per farti guidare che sa la mia pedina che sa tutte le strade di tutta la mappa di Dragon's Dogma 2 nettamente nettamente va bene no facciamo sono ualone su PSN quindi mi trovi proprio strafacile settimana croccante esattamente e ci vediamo domani domani a qualcuno cercheremo di far capire anche di che cosa abbiamo parlato del finale fa una fazza di 16 adesso domani senza spoilerare grazie buon ride caraibi a tutti caraibi 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 grazie grazie